Eccoci qua, con un po' di ritardo dovuto al ritardo di un treno del terzo nostro relatore, però sta arrivando a momenti, vi chiedo di prendere posto e così possiamo iniziare questo intervento su un tema che è nuovo ma è vecchio, esercito europeo, di esercito europeo si parlava da prima ancora che nascesse la comunità economica europea, era una delle ipotesi iniziali, poi è stata abbandonata, se ne è tornato a parlare, ha senso parlarne ancora, non ha più senso, cerchiamo di capirlo con i nostri tre ospiti di oggi, Dario Fabri di Limes, Daniele Lazzari, un nostro trentino, è il presidente, referente del nodo di Gordio e Gian Andrea Gaiani, esperto in esercito militare, che è il terzo in ritardo, che dovrebbe arrivare però a momenti. Nella tese che arrivi comunque possiamo iniziare subito e io do la parola a Daniele Lazzari per introdurre e per avviare la chiacchierata, grazie. Uso questo e così questo lo diamo a Dario Fabri. Bene, grazie e benvenuti a tutti. Si parla di esercito europeo oggi, no? Qualche volta viene in mente la battutaccia di dire, si parla di esercito europeo, l'esercito europeo non esiste, quindi abbiamo finito il convegno a rivederci a tutti. In realtà no, perché è una grande prospettiva in costruzione, Dario, dal lontano 99. Quindi è un lungo percorso poi confermato dai trattati di Lisbona, eccetera, però lo vediamo purtroppo ai noi ancora effetti pratici sulla organizzazione di un vero e proprio esercito europeo non ce ne sono. Questa mattina mi interrogavo su come avviare un po' la discussione, da che punto partire. Quindi mi è venuto in mente di chiamare l'amico Edward Lutwak, che voi tutti immagino conoscerete come consulente della Casa Bianca e come esperto di geopolitica e di strategia militare, e gli ho posto proprio questa domanda. Dice, mi fai una provocazione sull'esercito europeo? Lui che notoriamente non accetta le provocazioni, no? Mi ha risposto immediatamente, c'è già l'esercito europeo, si chiama la NATO. Si chiama la NATO, esiste già una NATO, esiste già un esercito organizzato attraverso il patto atlantico, però questa è una prospettiva, Dario Fabri, un po' limitante. E da qui partiamo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie Daniele per l'introduzione. È una prospettiva certamente limitante, almeno per quanto mi riguarda, non lontanissima dalla realtà. Mi spiego, come detto correttamente, si parla di esercito europeo a livello istituzionale dalla fine degli anni 90, ma se volessimo tornare indietro agli inizi della guerra fredda con la CED, che non era esattamente l'esercito europeo per come se ne parla oggi, ovviamente, cioè la Comunità Europea di Difesa che poi scompare già nel 54, quando essenzialmente la Francia rigetta l'idea perché temeva molto semplicemente il riarmo della Germania ancora allora, la Germania occidentale, è qualcosa di cui si discute da molto tempo. Ma è altrettanto vero che si tratta di chimera, per molteplici ragioni di cui immagino oggi parleremo, anzitutto per il fatto che forze armate in assoluto prevedono nella loro esistenza, come dire, compiuta, uno spazio di riferimento che abbia una sua assoluta sovranità. Cioè, per carità, si possono costituire forze armate ancillari ad altre. Noi ne siamo l'esempio diretto, visto che le forze armate sono parte della Nato, sono sottoposte anche al Comando Supremo della Nato, eccetera. Allo stesso tempo, però, se immaginiamo un esercito europeo in quanto tale, quindi qualcosa di diverso dalla Nato, altrimenti ha ragione l'Utwok, cioè esiste già, ma se lo dobbiamo immaginare in maniera differente, dobbiamo immaginarlo sovrano. E qui già siamo in un ambito, facilmente intuibile, vagamente fantasioso. Cioè, anzitutto perché l'Europa non è una nazione. Per carità, si può anche costituire un gruppo di soci, di alleati, chiamiamoli come vogliamo, che insieme si danno una conformazione, non di nazione, appunto, perché la nazione è una questione sentimentale, anche se noi da qualche anno ci siamo convinti che si possano creare nazioni a tavolino. Cioè, ci sediamo, perché non stiamo bene insieme, la nazione è qualcosa che riguarda il sentimento, quindi che va molto al di là della possibilità di crearla a tavolino e spesso dobbiamo essere altrettanto sinceri, le nazioni che noi ricordiamo, ed è sempre successo così, purtroppo, ma decidete voi, nascono con la violenza. Cioè, c'è un modello dominante, a volte c'è anche un gruppo dominante che si impone sugli altri e così via. Insomma, noi ne siamo l'esempio, l'idea italiana di unificazione è un'idea essenzialmente di modello settentrionale, di modello piemontese, che ha avuto una reazione anche violenta al Sud, un po' nascosta nei libri di storia risorgimentale italiani, il che è normale, è un classico, la storia serve per creare un senso pedagogico nella popolazione, anche di appartenenza, ma ci fu una resistenza al Sud, reale al progetto di unificazione. Tutto questo in Europa non c'è, anche fortunatamente, intendiamoci, la nazione non c'è, quindi siamo già in un ambito di una conformazione, più o meno lasca, che si vuole dare delle forze armate. Se non fosse altro, e questo è l'altro punto evidente, che è inserita l'Europa nello spazio di influenza di una superpotenza. Cioè l'Europa fa parte, avremmo detto qualche tempo fa, ci avrebbe fatto meno impressione, oggi ci fa impressione, ma la realtà fa parte dell'impero americano. Cioè le istituzioni europee e la Nato stessa, che ne è il doppione strategico per gli americani, sono istituzioni inserite nello spazio di influenza americano, non sono rivali, ci mancherebbe perché, altrimenti insomma avremo più problemi di adesso, ma non esistono in un vuoto, non hanno una sovranità assoluta. E questi sono già i primi punti per quanto mi riguarda di interrogazione, cioè come si costituisce un esercito dove la nazione non c'è. E se superiamo la nazione, se semplicemente costituiamo delle forze armate classicamente composte da alleati, che quindi non hanno una sovranità in assoluto da nazione, allora esistono già, ed è la Nato, però si può dire benissimo, però noi le vogliamo costituire in modo che non siano sotto l'ombrello statunitense, che siano una costituzione di alleati che non sono una nazione, che semplicemente fanno gli alleati, dunque rimanendo come evidente nazioni a sé stanti, proviamo a farlo. Qui, e mi avvio alla conclusione di questo mio primo intervento, altri due caveat, altri due perplessità. La prima, chi comanda forze armate di questo tipo? Se noi non siamo una nazione, quindi non ce n'è una dominante sulle altre in assoluto sul piano militare, si intende, da chi è composto lo Stato Maggiore di un esercito europeo? Chi fornisce il maggior numero di brigate? Fate voi divisioni, se ne può discutere all'infinito, di mezzi? Chi spende di più? Chi spende di meno? E un generale francese comanda su una brigata composta da tedeschi? Oppure viceversa? O ancora? Un generale italiano comanda, ma non comanda nelle operazioni tra mille virgolette di pace, delle coalizioni con i caschi blu, comanda in guerra, che è qualcosa di molto diverso. Anche qui noi tendiamo un po' a confondere i campi. Ci sono stati i generali italiani che sono stati alla testa, che so, della coalizione internazionale impegnata nei Balcani, piuttosto che in una piccola fase in parti dell'Afghanistan, eccetera. Ma quando si tratta di fare una guerra reale, che dura mesi, se non di più, ed è composta da gente che muore letteralmente in guerra, e non in senso sparuto ogni tanto per incidenti o per agguati, ma muore proprio in battaglia, a quel punto trovare un generale che comanda su una divisione composta da altre nazionalità diventa molto difficile, specialmente se le cose si mettessero male. Aggiungiamoci, concludo, l'alta perplessità su questo scenario, che l'ho lasciato per ultima, perché non è un dettaglio, e gli americani che cosa direbbero di un esercito europeo? Usiamo un eufemismo, non sarebbero felicissimi. Il che significa, quando si tratta dell'unica superpotenza a livello globale sul piano militare nettamente staccata da tutte le altre, nemmeno, come se fosse una gara di ciclismo, nemmeno si vedono gli americani, sono già oltre la curva, per quanto riguarda, che so, cinesi, russi o chi volete metterci dentro, non si limiterebbero all'invettiva, non direbbero, però che peccato potevate risparmiarvelo. L'atteggiamento sarebbe molto aggressivo nei confronti di un'idea del genere, senza contare, ma di questo lascio poi la palla a Daniele, ne possiamo parlare più tardi, ma c'è tutta questa voglia di fare un esercito in Europa, nel senso, ne discutevamo anche prima, tu portavi giustamente a mio avviso il caso dei paesi di Viscegrad, che a chiacchiere, perdonate il gergo, sono felicissimi e prontissimi, armiamoci, ma partiamo un po' meno, ecco, e soprattutto pagate voi, che anche questo non è un dettaglio, ma lascio la palla a Daniele, che su questo punto so che si diverte, come me, ad interrogarsi, mettiamola così. grazie, grazie Dario, io non è che mi diverta particolarmente, dico mi arrabbio, perché siamo di fronte a un pubblico anche con presenza femminile, per cui certe cose non si possono dire, e quindi effettivamente è una delle problematiche più importanti che riguardano questo argomento. hai citato poco fa, infatti, mi è interessato moltissimo, tanto adesso facciamo tutto un giro a volo d'uccello su varie questioni, e poi entriamo nello specifico, appena ci raggiunge Gianandrea Gaiani, così entriamo poi nello specifico delle singole situazioni. Mi è interessato moltissimo questo concetto di nazione, cioè esiste un esercito se non c'è una nazione, e in effetti, noi che peraltro veniamo da un territorio, mi ha presentato così l'amico Giancarlo Singer prima, da Trentino, pur essendo nato a Roma, ma comunque le mie radici storiche sono qui, vivo qui da una vita, fino alla prima guerra mondiale sappiamo benissimo che un ufficiale dell'esercito italiano poteva tranquillamente diventare un ufficiale dell'esercito francese, piuttosto che prussiano. C'era una considerazione della unità europea che noi forse nel frattempo abbiamo anche perso, nonostante tutta questa attenzione nei confronti del mondo dell'Unione Europea. Ma hai citato prima il gruppo di Visegrad? Benissimo, mi sono stampato un dato, io non sono particolarmente felice di leggere i sondaggi, ci credo poco o meglio, avendo letto con attenzione il maestro Mark Twain, mi affido sempre a una sua massima che diceva esistono tre tipi di bugie, quelle piccole, quelle grandi e le statistiche. E nella statistica che ho qui davanti effettivamente se uno guarda i membri, gli stati membri dell'Unione Europea che più supportano l'idea della nascita di un esercito comune europeo, ci sono paesi sicuramente importantissimi come tutti i paesi membri dell'Unione Europea come la Lituania, come la Lettonia, la Polonia, la Romania con percentuali di gradimento sopra, di gran lunga sopra all'80%, con picchi incredibili per il Lussemburgo che avevo visto prima del 90-80%. Chi sono invece i paesi che sono più, non dico ostili, ma più restini nel far passare il concetto di un esercito europeo? Sono l'Austria da un lato, la Svezia, la Finlandia, non parlerei della Grecia che probabilmente restia per evidenti ragioni economiche proprio perché poi chi la paga? Chi lo paga questo esercito europeo? E lì casca l'asino. casca l'asino soprattutto perché il paese in realtà a livello europeo che più ha finanziato finora l'idea di costruire la politica di sicurezza eccetera eccetera europea chi è? Ecco, e nel frattempo arriva neanche a farlo apposta, diamo il benvenuto a Gianandrea Gagliani. Se vuoi Gianandrea dico un'altra cosa, si parlava adesso di esercito europeo in questo momento, no? forse dobbiamo riorganizzare le ferrovie dello Stato prima di parlare di esercito. Non quelle dello Stato. Ah no, tu avevi l'OBB, sei venuto con le ferrovie austriache, benissimo. A proposito di precisioni eccetera eccetera, Stavo, ti sintetizzo così, magari passo la palla a te in questo caso, parlando con Dario Fabri prima, si parlava di sondaggi e di statistiche, i paesi più devolution nei confronti della nascita di un esercito europeo sono la Lituania, la Lettonia, la Polonia, il Lussemburgo con il 90%, la Romania eccetera, quelli che invece sono un po' più resti nel essere favorevoli alla creazione di un esercito europeo chi sono? L'Austria, tu adesso hai appena avuto un piccolo problema, la Svezia, ma c'è un problema e cioè UK qua io leggo, UK, cioè UK lo consideri ancora Europa? Beh, non lo erano prima, lo sono stati forse eccetera, adesso abbiamo tutta la questione del Brexit e loro finanziavano comunque l'idea, quantomeno la politica di sicurezza comune europea per il 25% che non è poco. Allora, tanti sono i discorsi che si possono fare su questo argomento. Diciamo che la Gran Bretagna non si è mai chiamata fuori da un discorso di difesa europeo perché ha sempre svolto il ruolo di, è brutto dire, canne da guardia, comunque di gendarme degli Stati Uniti all'interno dell'Unione Europea. Cosa volevano evitare gli Stati Uniti e cosa vogliono evitare anche oggi? Che uno strumento militare europeo congiunto, di questo si parla con questa PESCO, questa cooperazione sulla difesa strutturata e permanente che non si dà più solo l'obiettivo di creare una cooperazione che già esiste ma punta a un'integrazione delle forze armate europee. Allora, in questo senso la Gran Bretagna stava dentro perché riusciva in questo modo a pilotare l'idea che questa Unione Europea della difesa non rischiasse di diventare un'alternativa alla Nato. Questa preoccupazione ce l'hanno anche alcuni paesi dell'est Europa, la Polonia, le Repubbliche Baltiche, paesi che hanno la cui storia racconta di continue pressioni, invasioni da parte della Russia, da parte della Germania e che quindi vedono negli Stati Uniti, nel baluardo della Nato un punto di riferimento vogliamo dire utile ma sicuramente meno minaccioso dei propri grandi vicini europei. oggi che la Gran Bretagna sembra uscire dal discorso europeo non a caso l'amministrazione di Trump ha mostrato molto interesse nei confronti del governo italiano e la cooperazione con gli Stati Uniti semmai dovesse rafforzarsi in questo senso considerate anche le posizioni critiche che ha l'attuale governo italiano nei confronti dell'Unione Europea potrebbe farci diventare la nuova piccola Gran Bretagna perché piccola perché in termini militari noi pesiamo molto meno anzi però un indizio di questo atteggiamento positivo degli Stati Uniti verso di noi l'abbiamo avuto quando voi avete visto gli americani spesso bacchettano gli europei dicendo spendete troppo poco per la difesa dobbiamo proteggervi noi voi spendete troppo poco beh se c'è un paese che in termini di percentuale di PIL spende veramente pochissimo è l'Italia meno di noi solo il Lussemburgo e forse la Spagna ma credo ci abbia già superato eppure gli americani questo cazziatone se mi passate il termine non ce l'hanno mai tirato stanno cominciando adesso perché ci siamo dimenticati una rata sugli F35 siccome quelli vanno in tasca le loro aziende per concludere per finire la risposta la sensibilità sulla difesa europea sono varie perché sono vari i paesi i popoli europei come sono varie le percezioni su tanti altri termini della difesa dell'Europa io credo che parlare di difesa europea oggi sia difficile almeno su un campo strategico nel campo di impiego delle forze militari per ragioni che poi vedremo penso avremo modo di parlarne dico solo questo che se c'è un punto su cui l'Europa della difesa già esiste si può rafforzare si deve rafforzare facendo attenzione a non far vincere sempre solo i grandi e qui parliamo di industria della difesa i grandi sono Francia e Germania che si sono ancora più rinsaldati ultimamente anche sul fronte della difesa anche se problemi fra di loro continuano ad essercene ecco l'aspetto che funziona nella difesa europea in questi anni ha funzionato quello dell'industria il cacciabombardiere Typhoon lo produciamo in un consorzio che è italo tedesco spagnolo britannico una società europea è la seconda società al mondo a produrre missili militari si chiama MBDA e ci sono dentro gli italiani 25% delle azioni sono nostre di Leonardo ex finmeccanica ci sono i britannici i francesi i tedeschi e indirettamente anche gli svedesi quindi se c'è una qualcosa che funziona è l'industria ed è anche normale che sia così perché nessun paese europeo oggi costituisce da solo un mercato sufficiente per far sopravvivere l'industria nazionale della difesa quindi occorre lavorare su prodotti che siano acquistati poi da diversi paesi europei successivamente anche esportati come esempio il Typhoon che è il servizio in Arabia Saudita in Oman e in altri paesi allora questa sulla base industriale io credo che abbiamo buone prospettive al patto di non farci fregare dai francesi dai tedeschi cosa che è un rischio che vedo abbastanza concreto come italiani e sul resto insomma io sull'integrazione delle forze armate sull'integrazione di politica militare sono molto scettico perché ogni paese ha i suoi interessi ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo perché poco prima che arrivassi avevamo appena toccato proprio a volo d'uccello si diceva la questione fondamentale cioè Dario Fabri aveva giustamente identificato è anche difficile ipotizzare la presenza di un esercito comune europeo quando l'idea di una nazione europea se non sulla carta se non per grandi idee che però rimangono tali non esiste facevo l'esempio io da Trentino che vive in una regione di confine comunque che fino alla prima guerra mondiale un ufficiale dell'esercito italiano poteva tranquillamente fare l'ufficiale dell'esercito francese piuttosto di quello prussiano lì c'era forse una condivisione da questo punto di vista che pur esparlando di più di cento anni fa oggi non la vediamo rappresentata nella realtà e quindi chiedevo ad Ario Fabri due cose uno di riagganciarci a questo discorso nazione e corrispondenza tra coscienza nazionale e esercito comune europeo l'altra riagganciandomi alla domanda che ho fatto a Gianandria Gaiani cioè quella proprio della presenza anzi della presenza della questione Brexit che comunque è sul piatto ritardi o non ritardi questo è un problema visto che loro sono i massimi finanziatori insomma a livello europeo non c'è dubbio per quanto riguarda parto ovviamente dall'inizio la questione di nazione abbiamo accennato poco fa credo che in Europa si sia un po' dimenticata dalle nostre parti cioè sia trattata come qualcosa di risolvibile a tavolino come dicevo poco fa cioè sì per carità le nazioni esistono però se ne può fare anche a meno nel senso se ci mettiamo a tavolino e firmiamo un bel patto in cui ognuno io faccio A tu fai B ne creiamo una cioè da un giorno all'altro diventiamo una nazione la nazione diciamo anche prima è se c'è qualcosa di puramente sentimentale è proprio la nazione che quindi va molto oltre la questione a tavolino se dovessimo fare un esempio visto che Aristotele si divertiva a definire la scienza politica la scienza architettonica per eccellenza quindi da riportare comunque dall'alto poi verso il basso con esempi che possano essere chiarificatori è come se io grazie è come se io spendessi che so anni e anni con un signore che considero diciamo più grande di età che può avere l'età di mio padre che considero come un maestro un mentore poi scoprissi improvvisamente che un figlio ce l'ha e il padre non è il mio cioè il padre del figlio che ha cioè non basta stare insieme per decenni e decenni per diventare una nazione semplicemente così come non basta diventare padri e figli quindi se non c'è una diretta produzione biologica a meno che veramente non sia stato cresciuto fin dall'infanzia come un figlio ma questo è un altro discorso cioè la nazione riguarda veramente il sentimento puro e a volte può accadere come a volte no si può essere anche figli biologici e non sentirsi figli di un padre cioè siamo veramente in un ambito la nazione che è totalmente irrazionale se a questo aggiungiamo anche che di tutte le costruzioni che conosciamo poi sarà superata tra qualche tempo ma al momento no non esiste una costruzione alternativa allo stato nazione ad oggi che sia riconosciuta come tale ci sono gli imperi ma sono stati nazioni o diversamente sono stati plurinazionali che si sono fatti impero ma comunque partono da uno stato plurinazionale cioè delle nazioni dentro ci devono essere ecco così ci chiamiamo ci hanno raccontato che le nazioni fossero morte e superate dagli anni 90 ad oggi le nazioni sono nettamente aumentate al mondo e qualsiasi comunità che pensa alla propria indipendenza vuole diventare uno stato cioè non vuole essere nazione basta la Catalogna vuole essere uno stato non vuole sciogliersi in amorosi sensi nell'Unione Europea la Scozia che è una nazione senza alcun dubbio si immagina in futuro gli indipendentisti scozi si intende come uno stato inoltre anche questo facciamo accenno prima la nazione prevede un elemento di costruzione violento tutte le nazioni sono nate tranne rarissimi casi ma veramente non me ne viene in mente nessuno al momento qualcuno forse ci sarà sono nati in forma di violenza cioè sono una produzione di violenza c'è un modello dominante che si impone sugli altri c'è un gruppo che si impone sugli altri e li rende simili a sé al punto che ci se ne dimentica oggi noi stiamo tenendo questa conferenza in una forma standardizzata di Fiorentino è un modello culturale dominante che noi diamo come proprio è italiano ma che esempio che il napoletano che è una lingua altrettanto forse anche più musicale del Fiorentino probabilmente il Fiorentino è la lingua più bella del mondo ma il napoletano non è lontanissimo il bolognese non scherza il romano io sono romano il romano non esiste perché il romano è una forma corrotta di Fiorentino che segue il sacco di Roma nel 1527 quando Roma si spopola e il papato toscano introduce il Fiorentino a Roma e per questo a Roma non ha un dialetto ma tutti questi erano modelli culturali a sé stanti se ne impostano sugli altri così nascono le nazioni al punto che noi consideriamo il nostro modello culturale come assoluto poi se c'è uno stato noi italiani quando con questo lo si racconta gli italiani gli italiani si lanciano dalle finestre ma se c'è uno stato omogeneo sul piano etnico è proprio l'Italia gli italiani sono studenti convitti al contrario beati loro e spesso infatti non ci azzeccano ma l'Italia in Europa occidentale ad esempio se non è lo stato più omogeneo dell'Europa occidentale bisogna cercarne veramente con il lumicino ci sono paesi che le nazioni alternative dentro ce li hanno senza citare la Spagna o il Regno Unito figurati il Regno Unito ne ha quattro ma la Germania che i bavaresi siano prussiani questo non esiste al mondo parliamo di signori che sono profondamente cattolici al confronto di persone che parlano sì tedesco come loro ma che sono storicamente luterani e che vivono in pianura rispetto ai bavaresi che si cominciano ad alzare sulle Alpi cioè è qualcosa di molto diverso quindi la nazione va presa molto sul serio perché riguarda la fibra stessa antropologica di una comunità e che cosa c'entra l'esercito e concludo prima di toccare velocissimamente la Brexit e l'Inghilterra e il Regno Unito che cosa c'entra con l'esercito tutto questo facciamo l'esempio anche prima finché si fanno le missioni di pace con pace fra mille virgolette il peacekeeping possiamo fare anche coalizioni in cui a rotazione un generale comanda sugli altri si muore anche per carità in operazioni di questo tipo ma sono morti ridotte spesso per imboscata spesso per guerriglia simmetrica come tutte le guerriglie peraltro ma se ci si trova in una guerra massiccia cioè reale concreta nella quale si muore perdonate la brutalità centinaia un generale di una nazione che comanda su brigate composte da altre nazioni a meno che non sia in condizione di impero come è capitato nella storia l'esempio che tu facevi infatti riguardava gli imperi allora va tutto bene c'è un impero che domina sulle nazioni che ne sono sotto ma se siamo alla pari quando le cose si mettono male che un generale italiano facciamo questo esempio prima comandi una divisione di britannici siamo in piena fantasia già durante il bel tempo ma durante il brutto tempo siamo davanti a un ammutinamento assoluto ecco perché l'idea di nazione peraltro si basa sul principio almeno con le differenze che ci sono interne di una comuna appartenenza che trascende l'aspetto di reciprocità nella percezione detto in termini molto più semplici abbiamo citato i britannici i britannici non ci considerano esattamente al loro livello poi ci possiamo nascondere ci raccontiamo l'Italia ad esempio si spese molto per far rentare la Gran Bretagna all'epoca nelle comunità europee l'Italia fu fautrice nel 73 quando ci riuscimmo ci riuscimmo intendo in senso allargato l'Italia era un artefice perché era convinta e tutto sommato sul piano tattico non aveva tutti i torti che la Gran Bretagna potesse essere utile all'Italia proprio per quello che diceva prima di me Gianandrea Gaiani già all'epoca era un tema evidentemente per annacquare un po' l'asse renano per avere un bilanciamento poi abbiamo scoperto e ci siamo rimasti molto male che gli inglesi l'asse con noi non lo fanno perché non ci considerano a loro livello cioè non ci possiamo raccontare frottole non siamo non siamo un interlocutore paritario o comandano loro o comandano loro e quando si tratta di esercito quindi siamo nell'ambito più intimo perché si muore non siamo in ambiti di costruzione figurata chi comanda conta molto che la Gran Bretagna esca ed è il primo contributore penso che su questo abbia detto il dottor Gianandrea che la Gran Bretagna è il primo contributore finanziario del progetto di difesa europeo in un senso molto allargato per ragioni strumentali insomma non ci possiamo nascondere dentro un dito non perché la Gran Bretagna pensa che un giorno esisteranno le forze armate europee come forze armate to cure pensa di doverci essere prima Gianandrea ha trovato un'espressione cane da guardia se non ricordo male io direi cavallo di troia possiamo dire cavallo di troia degli americani cioè sono lì per telefonare a Washington e dire tutto bene questi ancora discutono di questioni che con le forze armate c'entrano poco la difesa europea sono d'accordo è una questione seria nel senso di produzione industriale questo è molto vero perché non siamo esattamente incapaci da questo punto di vista tutt'altro anche se qualcuno forse se lo dimentica ma siamo molto capaci se fossimo in grado e veramente concludo di creare un'industria reale europea non soltanto centrata sono d'accordo anche su questo sull'asse renano benedetto maledetto fate voi sarebbe un grande passo avanti sarebbe soprattutto un progetto concreto ne parlavamo anche prima Gianandrea non c'era e poi c'è il convitato di pietra non è che gli americani non esistono e soprattutto non sono un paese pacifista non si limiterebbe all'invettiva davanti ad un esercito europeo insomma ci romperebbero le scatole sul serio arriveremo anche poi a definire quali sono le strategie e da un punto di vista americano e da un punto di vista magari anche cinese informazione tecnica perché sta facendo il service non so se è importante o meno ma il video qua è saltato non vorrei che fosse saltato qualche collegamento nei passaggi così lo do come informazione perché prima c'era e adesso non c'è più Gianandrea così mettiamo veramente il carico da 90 adesso si parla di condivisione e quindi di esercito comune europeo benissimo esiste una è una domanda retorica questo è evidente una strategia comune dell'Unione Europea negli scenari internazionali perché nel bene o nel male nel positivo o nel negativo l'Europa ha comunque una dimensione non è semplicemente una dimensione geografica anzi ha una dimensione geopolitica comunque importante ricordi che qualche anno fa la sesta flotta aveva quasi pronunciato una sorta di ritiro dal Mediterraneo perché comunque gli obiettivi strategici si spostavano verso un altro oceano che era quello del Pacifico e in realtà adesso c'è un ritorno alla centralità del Mediterraneo non solo per i subbugli che avvengono in tutto l'ambiente del Nord Africa e del Medio Oriente ma comunque più in generale come area strategica centrale ora noi stiamo assistendo a tutta una serie di tensioni militari o anche solo politiche dove la presenza dell'Unione Europea sarebbe da un punto di esercito comune forse auspicabile non mi pare che ci sia una strategia condivisa anzi stiamo vedendo esattamente il contrario allora in termini militari la strategia si elabora dopo aver stabilito un documento che generalmente è politico che evidenzi gli interessi nazionali quali sono gli interessi nazionali si mettono in fila si analizzano quali sono le capacità di tutelare questi interessi nazionali ci sono quelle politiche diplomatiche militari da lì allora quando è definito andiamo in Libia domani premesso che secondo me la domanda da porsi non è mai con quanti uomini con quanti aeroplani ma a fare cosa perché bisogna sapere cosa si va a fare e avere le idee chiare su cosa si va a fare la seconda domanda dovrebbe essere che prezzo sono pronto a pagare per fare questa cosa che tutela gli interessi nazionali ma prendiamo un esempio la Libia gli interessi andiamo con un esercito europeo francesi e italiani hanno gli stessi interessi gli stessi tedeschi hanno gli interessi che abbiamo noi la Siria dovevamo dovuto andare a fare la guerra a Bashar al-Assad come volevano francesi britannici e americani per gli interessi dell'Europa cioè per avere anche sulle spiagge siriane gli stessi jihadisti che abbiamo sulle spiagge libiche allora attenzione prima di parlare di strategia di difesa europea parliamo di interessi allora l'Europa noi europei abbiamo qualche interesse che ci accomuna più o meno tutti anche perché tutti insieme produciamo siamo l'area geografica geopolitica che ha il più alto anche dei cinesi anche degli americani quindi economicamente ma non siamo una federazione di stati e se anche lo fossimo credo che faremmo fatica ad avere interessi comuni probabilmente la Svezia che ha una tradizione di presenza militare simbolica in missioni dell'ONU non coglierebbe nessun interesse a mandare i suoi soldati a morire in Libia cosa che magari a noi interessa un po' di più siamo pronti ad andare a combattere in Lettonia contro i russi allora per cui faccio questi esempi anche un po' forzati forse perché i problemi credo che siano due e cioè fondamentalmente che intanto dobbiamo stabilire quali sono i nostri interessi nazionali stabiliti quelli vediamo con quali paesi europei abbiamo delle convergenze attenzione io non credo alle alleanze perpetue quando sento dire noi dobbiamo essere fedeli alla Nato no le alleanze non sono eterne se no saremmo ancora alleati di tedeschi austriaci ma poi abbiamo cambiato idea va bene però cioè le alleanze cambiano in base a che cosa agli interessi nazionali gli Stati Uniti hanno poco interesse verso la Nato hanno interesse che esista perché deve spendere di più per comprare gli F-35 prodotti negli Stati Uniti e per bilanciare la bilancia commerciale con gli Stati Uniti hanno interesse perché vogliono che continuiamo a rompere le scatole russi con i quali invece noi volevamo avere un rapporto molto buono allora ci siamo inventati qualcuno si è inventato la crisi in Ucraina l'avete vista l'Europa nella crisi in Ucraina non è mica tanto lontana da noi però qualcuno mi sembra l'americana disse fuck Europe e ha dimostrato chiaramente quanto contasse l'Unione Europea non in Afghanistan in Ucraina dove passano i gasdotti necessari anche e soprattutto noi allora voglio concludere citando un paio di cose che ha detto Fabri interessanti c'è un paese che sta arruolando militari di tutti i paesi UE ed è la Germania nelle sue forze armate da un anno a questa parte dopo l'ultimo libro bianco che stabilisce il libro bianco quali sono gli obiettivi strategici militari di un paese cioè noi l'esercito europeo lo facciamo noi e arruoliamo sì i rumeni ottimo ma perché non uno dei migliori ufficiali italiani io sono un ottimo ufficiale italiano non è vero ipoteticamente qua potrei stiamo sulla fiducia in questo caso Alessandra sì no troppi chili addosso anche se avessi le capacità ma è troppo vecchio ma perché dovrei restare qui dove c'è un bilancio risicato che non mi permette al massimo di addestrare mettiamo che io sia un colonnello ma è già troppo un capitano non riesco neppure ad addestrare la mia compagnia a meno che non debba andare all'estero in qualche missione farlocca perché possiamo parlare poi di quello se abbiamo tempo dove facciamo finta non facciamo mai la guerra ma addestriamo gli altri così nessuno dei nostri comandanti nessuno dei nostri soldati ha più fatto esperienza bellica sul campo direte meglio perché la guerra non c'è no c'è ma la facciamo fare agli altri beh perché devo restare in questa compagnia sfigata passatemi il termine quando io brillante giovane ufficiale in Germania mi darebbero il doppio di stipendio e probabilmente mi darebbero anche una compagnia dove potrei magari il materiale umano tedesco non è un granché sul piano militare oggi insomma non è la Wehrmacht parliamoci chiaro ci sono dei dati insomma io li ho visti in Afghanistan sembrava l'Octoberfest la base di Bazar-e-Sharif cioè ve lo dico onestamente insomma anche per le sembianze di alcuni di questi militari ma sicuramente avrei più soldi uno stipendio ottimo una casa per me e la mia famiglia a due passi dalla caserma se non dentro la base una grande base militare piena di scuole di asilinido di palestre e quindi la Germania con questa iniziativa sta cercando di assorbire il meglio dei militari europei perché è quella che può offrire finanziariamente anche le condizioni migliori un'ultima cosa in Afghanistan dove la Nato ha perso la guerra non si può dire abbiamo perso la guerra contro i talebani non contro i sovietici siamo venuti via dopo 3500 morti di cui 2000 americani in 17 anni non siamo in grado di reggere le perdite era la Maine e morirono 20 mili in una settimana 3500 in 17 anni sono troppi c'erano come diceva Fabri dei comandanti di uno stato stati uniti italiani inglesi secondo delle regioni che comandavano contingenti diversi e siccome là si cominciava a combattere a morire cosa hanno fatto i singoli paesi si sono inventati i caveat cioè le eccezioni che vuol dire io do i miei soldati sotto il comando Nato al generale americano italiano ma con queste eccezioni non possono condurre azioni offensive non possono inseguire il nemico in caso di combattimento non possono usare elicotteri per sparare al suolo perché potresti uccidere un civile e mi scoppia un casino a casa o a sui giornali c'erano più c'erano più caveat che paesi c'erano 50 paesi in Afghanistan e 65 eccezioni all'impiego anche lì e concludo davvero i tedeschi hanno dato il meglio loro potevano sparare per difendersi come fanno tutti ma quando il talebano attaccava la colonna i tedeschi rispondevano al fuoco se lui si ritirava non lo potevano inseguire ci fu una diatriba spaventosa gli americani avevano mandato le forze speciali tedesche che erano sotto un comando unificato di forze speciali a eliminare un leader talebano questo scappava sulle montagne ma non aprirono il fuoco i suoi uomini contro i tedeschi i tedeschi non erano autorizzati a sparargli è il problema delle regole d'ingaggio ma ci arriviamo dopo è il problema della capacità di uno stato di accettare che avere le forze armate e impiegarle significa fare la guerra che è una parola che noi abbiamo rimosso certo sono perfettamente d'accordo ora adesso per giustificare anche un po' il ritardo nella tempistica domanda e risposta sempre più breve ma anche più beh si è andato dopo l'ottobre si è andato giù cattivo quindi adesso andiamo giù cattivi anche noi siamo tutti delle damigelle noi invece hai parlato di una non più quindi di una Germania finalmente europea ma nuovamente di una Germania che è un'Europa germanica fondamentalmente torniamo di nuovo per vari motivi per vari motivi economici eccetera anche se poi questo grande motore d'Europa mi pare che si stia inceppando il che significa che forse un po' di stile collaborativo potrebbe aiutare non solo da un punto di vista economico ma anche in altri settori colgo l'occasione perché ho visto entrare in sala avendo finito di presentare il suo libro Ti arrivi Sol persona che peraltro non stimo molto ma per il quale ho una stima sconfinata invece che nel suo libro che si intitola così faccio anche la marchetta che mi sembra sempre decorosa Europa Matrigna mi ha ricordato una frase molto bella perché molto spesso si pensa che le persone la gente come si direbbe Roma con 3 G la gente non capisca la gente comprende perfettamente tutto e ricordava una frase del generale De Gaulle che di fronte a un elettore che gli stava chiedendo lei dovrebbe abolire i cretini e lui rispose testuali parole sì è un programma però molto ambizioso questo per dire che non è così facile far comprendere soprattutto quando si entra in dettagli in problematiche come queste però tornando a Dario Fabri gli ho chiesto di approfondire una cosa perché Gianandrea l'ha sfiorato anche se poi è il tema cioè l'interesse nazionale quando si riesce a concepire che cosa di cosa stiamo parlando quando si parla di interesse nazionale già abbiamo risolto il 90% dei nostri problemi seconda cosa che leggevo tra le righe nel discorso di Gianandrea Gaiani invece è proprio questo io sono perfettamente d'accordo non siamo più nella logica dei blocchi se è amico di quello o se è amico dell'altro si chiamano alleanze a geometria variabile per cui a seconda dell'obiettivo a seconda dell'obiettivo comune che si vuole perseguire ci si muove in una certa direzione è vero lo sappiamo tutti i nostri soldi i nostri militari stanno addestrando le truppe del Qatar ci sarà un motivo sicuramente c'è però non fanno la guerra stanno addestrando qualcun altro e quindi in campo bellico non si sono misurati quindi definizione la domanda è definizione dell'interesse nazionale se mai è possibile farla e soprattutto quali potrebbero essere le alleanze in questo frangente le alleanze a geometria variabile in quale punto ci fermiamo di questa geometria una domanda ci vorrebbero un paio di giorni probabilmente vabbè finito così allora finito così aggiungo soltanto velocemente visto che sono state citate da Gianandrea Gagliani le forze armate tedesche mi viene in mente una definizione geniale che si specchia nella sua che ne ha dato un ex capo di stato maggiore britannico che proprio l'ha visto in Afghanistan e ha detto ma chi tedeschi ma quelli sono campeggiatori aggressivi cioè un soldato tedesco oggi è paragonabile un campeggiatore aggressivo c'è un campeggiatore che fa il muso duro ma è sempre un campeggiatore è vero che la Germania sta integrando in alcuni casi proprio per capacità di influenza in altri per capacità di soldi da spendere anche delle brigate di eserciti altrui ad esempio c'è una brigata intera olandese dentro le forze armate tedesche ce n'è una della Repubblica Cieca ce n'è una della Romania però insomma siamo piccoli numeri sono tentativi e poi queste brigate sono considerate comunque in cooperazione cioè non sono diventate organiche in assoluto chiusa la parentesi sull'Italia stabilire qual è l'interesse nazionale ci mancherebbe in assoluto il punto principale di qualsiasi operazione non soltanto militare la strategia di per sé almeno per quanto mi riguarda che si differenzia dalla tattica la strategia di per sé dovrebbe esistere in quanto tale cioè un bravo stratega non dovrebbe inventare la strategia dovrebbe riconoscerla che è già qualcosa di molto complicato cioè un paese ha degli elementi strategici assoluti che deve perseguire dipendentemente da se stesso cioè l'Italia sempre al centro del Mediterraneo sta i suoi vicini quelli sono le sue capacità quelle sono il suo approccio post-torico alle vicende internazionali che poi è la sintesi di ciò che diceva Gianandrea Gagliani cioè l'insopportabilità anche di morire per l'interesse nazionale è un dato col quale ti devi confrontare perché l'opinione pubblica questa è non è un'altra a un'età mediana molto avanzata l'è stato raccontato per molto tempo che la storia era finita e ci hanno creduto sul serio perché è comodo che quindi le guerre sono soltanto economiche quante volte questa cosa ce l'hanno detta in tutti i modi quindi la strategia dovrebbe essere l'elemento con cui si fanno i conti con la realtà che poi si declina in tattica e già qui l'arbitro diventa maggiore cioè la tattica te la devi inventare ma te la devi inventare con un occhio alla realtà anche qui l'Italia ad esempio prima si citavano le missioni farlocche alle quali ha partecipato tu puoi anche partecipare ad una missione farlocca ma chiedendo qualcosa in cambio l'Italia ha distrutto di fatto il suo estero vicino mentre gli altri lo distruggevano ha partecipato un po' perché era costretta un po' sempre perché noi siamo un po' svampiti ci lanciamo bombardiamo la Serbia facendo finta che non bombardiamo distruggiamo la Libia eccetera eccetera noi veramente l'estero vicino l'abbiamo martoriato mentre gli altri lo martoriavano al posto nostro intendiamoci ma se ti spingi a tanto qualcosa in cambio la devi chiedere se io vado in Afghanistan dove veramente non ci dovrei stare neanche se mi dessero i miliardi per nessuna ragione perché non ha nessun tipo di senso dal mio punto di vista stretto così come anche andarmene in Iraq nel 2003 allora mi devi dare qualcosa in cambio noi non siamo mai stati capaci a chiedere niente in cambio sulle alleanze variabili è vero le alleanze quindi chiamiamole come vogliamo intese devono essere variabili l'aspetto ideologico deve essere abbandonato non esiste una fedeltà atlantica così perché esiste nell'aria ci vogliamo bene ci siamo sciolti in amorosi sensi e resteremo insieme per sempre è vero io qui però aggiungo un caveat un po' diverso che esiste una parte che va anche oltre la nostra volontà cioè nel caso di un patron imperiale come gli Stati Uniti non è che se noi domani decidessimo di lasciare la Nato potremmo farlo o anche semplicemente di abbandonare gli americani al loro destino perché ed è legittimo non ci danno niente in cambio non ci sono più funzionali la loro reazione non sarebbe sportiva è vero che gli americani oggi hanno nella Nato come è stato detto giustamente un approccio molto particolare eccetera però bleffano anche molto cioè la Nato agli americani serve per gestire il continente più importante del pianeta che non è l'Asia anche questo ci è stato raccontato è l'Europa perché l'importanza di un continente non è soltanto geografica o demografica sul piano matematico è una questione di capacità delle popolazioni locali cioè se io mi concentrassi soltanto sull'Asia ad esempio perdessi l'Europa la lasciassi ad una potenza a me ostile intendo io dominatore del mondo quindi gli Stati Uniti controllando l'Europa la potenza ostile anche se controllassi l'Asia diventerebbe estremamente pericolosa perché le capacità industriali tecnologiche di stare al mondo di cittadini anziani sì ma molto capaci come quelli europei contano contano molto quando ci viene detto perdonerete la brutalità il continente X nel 2050 avrà sparo cifra a caso 3 miliardi di abitanti la Nigeria ne avrà questa non è per niente a caso la cifra 300-400 milioni ragazzi ma poi dipende però anche le capacità di una popolazione dipendono molto non basta soltanto l'elemento demografico è vero che una popolazione giovane tende ad essere violenta e quindi può avere un valore a differenza della nostra che non lo è nel perseguire violentemente i suoi obiettivi e quindi può diventare una potenza ma ci vogliono molto le capacità quindi l'Italia e concludo sapere capire qual è il nostro interesse nazionale vuol dire guardare con occhi del tutto ideologici alla vicenda molto consapevoli dei nostri limiti ci sono alcune cose che dobbiamo fare obiettivamente ma dobbiamo essere capaci a chiedere qualcosa in cambio non si può dare tutto per scontato tutto gratis la questione libica obiettivamente era forse la più difficile che ci è successa ma potevamo intervenire in maniera molto diversa cioè quando abbiamo capito non l'abbiamo capito purtroppo ma se avessimo capito ad esempio che molto semplicemente la Francia con l'aiuto dei britannici puntava soltanto a sostituirsi all'Italia come paese di riferimento di un nuovo regime che non si è mai palesato se noi l'avessimo capito in tempo qualcosa di più l'avremmo potuto fare poi ci siamo ritrovati a svegliarci talmente troppo tardi che siamo dovuti intervenire noi anche a bombardare a partecipare alla guerra in Libia con tutti i nostri interessi semplicemente perché se no ci avrebbero usciamo da ogni ambiguità distrutti i pozzi che gestisce l'Eni c'erano proprio i bollettini che arrivavano al ministro della difesa italiana con i pozzi dell'Eni fra gli obiettivi quindi dobbiamo essere più lucidi oltre gli alleati di carta la Francia non è un nemico in assoluto dell'Italia ma ci sono contesti con il nostro avversario non dobbiamo avere per questa ragione pudore nel dimostrarlo la Francia ha pudore nell'esserlo non lo ha quantomeno nell'evidenziarlo infatti quindi grazie Dario ma su questo proprio Gianandrea se facciamo una fotografia due tre interessi nazionali diversi Francia Inghilterra Italia interessi diversi sembra la fotografia del 2011 ma non siamo nel 2011 siamo di nuovo nel 2019 eppure stiamo vivendo esattamente la stessa identità siamo neanche nel 99 la guerra alla Serbia la guerra alla Libia nessuno avrebbe potuto farla in termini politici o militari senza le basi italiane nel 2011 Obama non avrebbe mai avuto l'autorizzazione del congresso a schierare quattro portaerei nel Mediterraneo senza le quali le basi italiane non le rimpiazzavano quindi bastava bastava non individuare gli interessi nazionali bastava avere la capacità di difenderli anche contro i cosiddetti amici e alleati perché il risultato è che se c'è un'area d'Europa che è esplosiva anche se non ne parliamo mai sono quei Balcani islamizzati dopo che abbiamo bombardato due volte la Serbia nel 95 per la guerra in Bosnia e nel 99 per il Kosovo e se c'è un'altra zona che ci sta esplodendo in faccia migranti problema energetico è la Libia che abbiamo destabilizzato noi quindi io non vedo un problema nell'identificare gli interessi nazionali io vedo un'incapacità che è italiana ma che è anche di alcuni paesi europei quelli più piccoli e noi non siamo tra quelli è per quello che ne ho rammarico perché la Danimarca non si è unita alla politica di integrazione europea perché vuole restare per conto suo e ha un rapporto speciale con gli Stati Uniti possono essere d'accordo o meno ma ha fatto una scelta nazionale la Danimarca è un paese piccolissimo rispetto a noi anche in termini di forze armate e di spesa militare e soprattutto non è collocata al centro del Mediterraneo eppure una politica militare seria ha bombardato ha tirato un sacco di bombe in testa i miliziani dell'Isis voi dite sono d'accordo o meno non importa quello che conta è che la Danimarca la guerra dell'Isis l'ha fatta anche il Belgio noi l'unico miliziano dell'Isis che abbiamo ucciso è stato per sbaglio quello che aveva fatto l'attentato a Nisamri che aveva fatto l'attentato a Berlino di Natale che è arrivato vicino a Milano non abbiamo abbiamo avuto in Iraq la seconda forza per consistenza militare anche aerea dopo gli Stati Uniti ma noi non tiriamo bombe voi capite che c'è un problema anche di peso nazionale se la Danimarca in un'alleanza che può fare anche le cose più sbagliate pesa più di noi e ottiene in cambio più di noi la Norvegia ha fatto la stessa scelta non è nella UE però gli F-35 americani imbarcheranno il loro missile non quelli che produciamo noi che guarda caso noi europei noi italiani nella stiva dell'F-35 accidenti non ci entrano quello dell'arvegese sì invece mi rendete conto di questi dettagli proprio per dire quando poi vai a negoziare sì vengo in Afghanistan con te ma in cambio cosa mi dai 54 morti per avere qualcosa in cambio che ti dicono la Libia gestiscitela tu ah grazie a Trump noi però ma io non parlo solo di politica alzi la mano chi di voi è convinto che potremmo avere 200 morti per stabilizzare la Libia che quello è sicuramente un interesse nazionale qualcuno di voi pensa che possiamo accettare 200 morti in battaglia ed è un numero anche non tanto eccessivo no? e allora questo è il vero problema perché i russi che hanno un pilo inferiore all'Italia che hanno ero a Mosca alla conferenza internazionale sulla sicurezza una settimana fa e il capo è stato maggiore russo e poi mi fermo diceva ma noi siamo una minaccia spendiamo non abbiamo mai speso così poco per la difesa la Russia spende 70 miliardi di dollari all'anno noi circa 25 più o meno in dollari quindi il triplo di noi più o meno e la Nato tutta insieme ne spende mille di cui 750 solo gli americani dice ma e quindi sono una minaccia però sì magari col rublo puoi comprare più cose che col dollaro non c'è dubbio ma il problema è un altro è che i russi vanno in Siria per difendere i loro interessi nazionali perché nella loro dottrina strategica nella loro valutazione strategica che prima è anche politica la Siria è l'ultimo baluardo prima che le forze jihadiste si lancino a tutta birra contro il Caucaso questa è la loro valutazione per cui la Siria per loro non è un'operazione imperialista è la difesa della loro ultimo baluardo prima che la guerra degli jihad intri a casa loro dove peraltro del Caucaso è già entrata da un pezzo ma magari non ancora con capacità vanno in Siria e possono avere qualche centinaio di morti un po' soldati un po' contractor noi non li abbiamo i contractor infatti ci servirebbero anche a noi si spendono più facilmente del soldato con la bandierina e perché rivincono? perché hanno ancora la capacità di pagare un prezzo allora noi non abbiamo il problema di individuare i nostri interessi nazionali voi andate anche sul sito della difesa ci sono documenti che identificano molto bene il Mediterraneo allargato le fonti energetiche accidenti avevamo due fonti energetiche che ci davano due paesi che ci davano due accordi che ci davano l'autonomia energetica un successo è un grande successo di Silvio Berlusconi di cui non si parla mai che lui con gli accordi con Putin e Gheddafi ci aveva dato l'autonomia energetica che vuol dire la capacità strategica di non dipendere da nessuno se non da questi accordi fra il 2011 e il 2014 ci siamo giocati tutto grazie ai nostri alleati la Libia 2011 l'Ucraina 2014 e noi cosa facciamo oggi? mandiamo una compagnia di paracadutisti con la Nato a proteggere la Lettonia da un'eventuale minaccia russa che tra l'altro e faccio una provocazione e poi mi fermo che tra l'altro i russi se volessero venire a vedere e lo farebbero solo se avessero l'acqua alla gola il blef della Nato voi sapete che la Nato si basa su un articolo 5 chiunque attacchi un paese Nato tutti vanno in campo a fare la guerra a questo aggressore se la Russia occupasse un chilometro quadrato di territorio Lettone Nato poi facciamo la conta di quanti paesi europei sono pronti quanti paesi della Nato sono pronti a mandare i soldati a combattere contro la Russia attenzione perché su questo punto la vulnerabilità cioè l'incapacità di affrontare la guerra non importa quanti soldi spendiamo e l'Italia è tra i primi 15 paesi al mondo per spesa militare anche se spendiamo poco per certe cose e forse male non conta solo quello non conta come diceva prima Fabri conta essere nazione e noi ci hanno raccontato negli ultimi anni che dobbiamo essere tutti europei l'Europa non è ancora diventata una patria non è ancora diventata una nazione ma già ci hanno tolto un po' la patria e quindi senza patria chi è che è pronto ad andare a combattere in Lettonia penso che tutti sappiamo dov'è contro i russi domani perché ce lo dice l'articolo 5 della Nato quindi siamo in una situazione di fragilità che non è finanziaria o militare è essenzialmente esistenziale e principalmente politica perfetto dunque ultima domanda spot anche se è complessa davvero però spot poi fai delle domande vabbè ho capito se vuoi che faccia domande semplici va bene la capitale della Corea sono due del sud o del nord questa è la risposta scusa vabbè no Dario in conclusione la Cina l'abbiamo solo passata di striscio abbiamo accordi commerciali adesso la nuova via della seta la Belt and Road d'initiative quanto vogliamo da un punto di vista militare la Cina è un problema e l'Unione Europea in tutto ciò è importante e rilevante così dopo la tua risposta breve lasciamo spazio se c'è qualche domanda da parte del pubblico lasciami di soltanto in 20 secondi perché è troppo succulento Gianandrea parlava dell'articolo 5 è troppo bello l'unico caso forse qualcuno se lo ricorderà voi certamente sì in cui è stato invocato veramente l'articolo 5 e dopo un fatto incredibilmente sopravvalutato cioè l'11 settembre sembrava che il mondo dovesse cambiare per sempre se non hai capito bene perché un attettato terroristico anche se drammatico tragico in maniera straordinaria come quello ma non è che doveva cambiare il pianeta per questo i nostri si compesa l'Italia i simpatici alleati della Nato invocarono l'articolo 5 per far prendere un colpo agli americani che suoi hanno detto per carità facciamo da soli che scherziamo ci mancate solo voi ecco questo ci dà un po' l'idea dei rapporti di forze di come poi gli americani vedono le cose o qualcuno più lucido non so tanto gli americani vedono le cose anche all'interno della Nato sulla Cina è un problema dal punto di vista militare intendi come minaccia anche qui dipende nel senso la Cina è molto lontana anche se gli americani la raccontano più vicino di quanto non sia per evidenti ragioni di budget per serrare il proprio fronte eccetera se la partita fosse ad esempio soltanto talassocratica soltanto marittima sono lontanissime dagli americani non è neanche una partita ma si stanno sospendono molto si stanno adeguando alle loro esigenze vogliono costituire forze armate ma ad oggi ad esempio la Cina non sarebbe in grado di riprendersi il primo elemento strategico che ha in testa cioè Taiwan non potrebbe farlo di più in una guerra molto breve ad esempio con la marina giapponese che durasse pochi mesi avrebbe molta difficoltà poi certo ha una capacità di assorbimento delle perdite a mezzi anche numerici troppo superiori e quindi se la guerra dura di più come dovrebbe durare di più ne avrebbe ragione però ecco la Cina dipende anche qui che tipo di minaccia è come si collega le vie della seta le vie della seta sono un progetto di contro globalizzazione cioè di un mondo alternativo a quello statunitense e a quel punto un paese deve decidere bene può stare un po' qui un po' lì però l'Italia lo fa visto che riferimento immagino sia la firma del memorandum lo fa sempre un po' all'italiana cioè nel senso con un po' di ingenuità se chi di voi ha avuto la perversione di leggersi il memorandum avrà scoperto che dentro c'è quasi un cavolo cioè veramente nulla parliamo di due miliardi di accordi tra cui queste benedette arance siciliane che dovrebbero raggiungere la Cina via per carità magari non fa male poi il giorno dopo Xi Jinping però va in Francia che non ha firmato la Francia il memorandum conclude 40 miliardi di accordi senza firmare il memorandum sì per carità però questo ci dà l'idea di che cosa noi abbiamo fatto molto arrabbiare i nostri amici zelanti amici americani perché hanno colto l'elemento soprattutto simbolico delle vie della seta perché la visita di Xi Jinping a Roma con una delegazione di 500 persone quindi una visita puramente imperiale era ben oltre l'accordo che era soltanto simbolico come la visita cioè l'intenzione era di umiliarti di dire agli Stati Uniti guardate che noi abbiamo facilità ad entrare nel ventre molle del vostro spazio di influenza che si vende per quattro noccioline perché noi gli abbiamo promesso quattro noccioline e loro ci stanno accogliendo come salvatori della patria da ultimissimo visto che non siamo lontani Trieste che è la città italiana che più interessa ai cinesi e la città italiana sul piano infrastrutturale è meno italiana che esista cioè collegata molto bene all'extraspazio asburgico come sappiamo per ragioni di ferrovia antichissime ma se uno vuole andare da Genova a Trieste ci mette 5 ore e mezza mediamente in treno è ancora più importante perché non lo sapesse il numero fa discredamente in pressione da Trieste passa il 100% del petrolio che arriva in Baviera cioè siamo davanti a dati di questo tipo che i cinesi hanno molto chiari gli italiani un po' meno quando poi festeggiano l'arrivo dei cinesi che non sono qui per noi ma soprattutto perché guardano a nord bene purtroppo non c'è spazio per le domande però però sono sicuro non c'è tempo tecnico perché c'è un altro evento però sono sicuro che la cortesia dei relatori che abbiamo avuto fin qui presenti all'esterno per chiunque voglia rivolgere le domande saranno sicuramente a disposizione anche fumare una sigaretta all'esterno quindi perfetto vedi un po' vedi un po' che siamo in tre grazie a tutti passo la parola a Giancarlo Orsinger e ringrazio per la cortesia e ci scusiamo per la lunghezza spero una lunghezza utile mi spiace di non poter lasciare spazio le domande perché probabilmente ce ne sarebbero state tante comunque se i due relatori sono disponibili intanto grazie ma siamo purtroppo un po' grazie intanto Daria siamo purtroppo un po' lunghi adesso abbiamo l'ultimo appuntamento della serata molto più leggero con un argomento più leggero di questo naturalmente Claudio Sabelli Fioretti che dialogherà con Lorenzo Robustelli in maniera così simpatica divertente credo sull'Europa su alcuni aspetti dell'Europa non chiacchierate così a ruota libera tra due minuti arriverà magari se volete venire avanti quelli che sono nella parte in fondo alla sala è anche meglio e tra pochissimi di cominciamo grazie a tutti grazie a tutti che Grazie a tutti. 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 Stasera parleremo, in maniera non troppo seria, degli argomenti legati all'invecchiamento attivo della popolazione. Io vi lascio una pillolina di Trentino Salute 4.0. che è un centro di competenza, che è un centro di competenza, che è un centro di competenza nel quale c'è l'Università dei Studi di Trento, la provincia autonoma di Trento, FBK e l'azienda sanitaria e allo scopo di studiare questi temi. Come voi sapete se seguite un po' la politica l'assessorato o il ministero all'istruzione e il ministero all'assessorato alla sanità è storicamente l'assessorato in cui non va bene mai niente e in cui l'assessore o il ministro è incapace perché sono le materie che sono più sensibili per noi. Però al Trentino, io adesso non faccio quello che incensa, noi sappiamo come siamo, però per il Regional Competitiveness Index che è l'indice regionale della competitività è molto avanti in proporzione rispetto alle altre regioni europee per quel che riguarda la sanità e la salute. Quindi noi ci stiamo pensando, ci sono delle app, c'è la possibilità di fissare gli esami su Telegram, ci proviamo e all'invecchiamento della popolazione è dedicato anche un premio dell'Assemblea delle Regioni Europee che seguiamo come provincia di Trento che si chiama Silver Economy Awards. L'argento Anziano Sabelli. Siccome ha parlato di anziani, tocca a lui, lui è vecchio, non sembra giovane, si riporta bene ma ha i suoi 85. Sono abbastanza vecchietti anch'io, anche se per fortuna non sembra troppo. Allora, buonasera, noi non vorremmo parlare soltanto di invecchiamento, ne parleremo anche perché è il tema della serata, ma vorremmo coinvolgervi per parlare anche un po' di Europa, di Europa e noi, di cosa vuol dire, prima una collega di una radio parlavamo di che cosa vuol dire parlare di Europa in maniera simpatica, vuol dire che l'Europa è un po' anche di noi, non è soltanto questa cosa che sta là e che manda qualche cosa qua e che noi mandiamo spesso al diavolo là, ma è la nostra vita di tutti i giorni e come nella vita di tutti i giorni ci sono aspetti seri, aspetti piacevoli, aspetti meno seri, nel senso di divertenti e così via. Quindi vorrei parlare con Claudio della sua brevissima esperienza che mi ha raccontato in Europa, lui è stato in Europa, lui è stato a Strasburgo ed è stato a Bruxelles, che sono in Europa, una in Francia, l'altra in Belgio, ma identifica forse anche giustamente con questi posti l'Europa, l'Unione Europea, perché fisicamente in gran parte è là, poi c'è la Banca Centrale Europea che è a Francoforte e così via. E lui ha avuto un impatto radiofonico, faceva ancora un giorno da pecora in quei tempi e lo ha colpito la struttura a disposizione di chi fa radio a Roma, in Italia, alla RAI o al Parlamento Europeo. La RAI è una grande azienda editoriale, come sapete, è una delle più grandi d'Europa, abbastanza moderna, è stata per molti anni, ma quando Claudio è arrivato a Strasburgo si è reso conto di quanta differenza c'è da una cosa fatta da soli e una cosa fatta in Europa. Racconta un po' questa... Si diceva una volta, era un classico, che la RAI era dal punto di vista tecnico all'avanguardia nel mondo. Si diceva quando io però cominciavo a fare il giornalista, era 68, 69, e forse magari era vero. Poi invece la radio io ho cominciato a farla dieci anni fa e mi guardavo attorno e mi diceva ma come, e se questa è la migliore del mondo, figura dell'altri. La RAI... Si può parlare male della RAI, vero? Non si può. Non lo so, perché siccome mi hanno licenziato e vorrei essere riassunto... Io l'anno scorso avevo due programmi, sono arrivati nuovi e mi hanno cacciato da tutte e due. Hanno sospeso due programmi, solo, i miei. Radio 1, dei signori veramente. Voi potreste pensare che io ce l'abbia con loro. È vero, è vero, ce l'ho con loro, però non si sa mai, magari c'è il Radio 2, non lo so. Comunque, noi per esempio ogni tanto qualcuno ci chiedeva se poteva venire a seguire qualche ragazzo, soprattutto ci sono molti questi ragazzi che vogliono vedere perché pensano che entrano in Via Asiago. Via Asiago io trasmettevo dall'U2, poi c'era anche l'U3, non ho mai visto l'U1, forse l'U1 era quello bello e non ce lo volevano vedere. L'U2 era un bugigattolo col vetro e dall'altra parte, sapete quando c'è dall'altra parte del vetro, effettivamente c'è un vetro che serve a non far vedere quello che c'è dall'altra parte perché ci sono i riflettori e non vedi mai niente dall'altra parte, per cui il regista ti fa dei segni e non capisce perché tu non gli dai retta e perché non lo vedi, perché non c'hanno i vetri come sicuramente c'erano a Bruxelles che ti consentono di vedere. Allora c'era questo, noi stavamo dall'altra parte del vetro, c'era un tavolo, una schivania, sopra un panno, come quelli per giocare a carte, pannolenci dicevamo una volta, io sono del 44, si diceva pannolenci. Zozzo, una schifezza, cioè una cosa sembrava ci avessero mangiato dei porcelli, non lo dico, ma insomma sporco, veramente sporco. faceva schifo toccarlo proprio, noi invitavamo della gente, la gente entrava e guardava e diciamo donna santa, me ne vado subito, e questo qui era soltanto la schifezza logistica, igienica, però per esempio non funzionava mai l'aria condizionata, che in radio vuol dire soffrire il caldo e soffrire il freddo. Ma anche tecnicamente, non so per quanto tempo non abbiamo potuto fare una certa cosa che adesso è complicato a spiegarvi, ma insomma la radiovisione, perché mancava un cavetto, cioè quello che qualsiasi figlio nostro scrive una cosa sul computer e gli arriva il giorno dopo con Amazon, mancava il cavetto, cioè manca il cavetto, ma chi lo deve prendere il cavetto? E che ne so, io non devo prendere il cavetto, ma chi deve prendere sto cavetto? Non si è mai capito chi doveva prendere il cavetto. I microfoni erano fatiscenti, uno sicuramente era quello che aveva usato Marconi per parlare con me, gli altri erano, quando veniva qualcuno che se ne intendeva, diceva, ma non usate voi i calzabubboli? No, che ne so, questo è il microfono che ci abbiamo. Era veramente dal punto di vista tecnico, allora una volta invitammo Arbore, Arbore perché era forse il 25ennale, il 30ennale, non so dire, della trasmissione di Arbore, adesso non ricordo come si chiamasse, no, no, quella radiofonica, alto gradimento, venne Arbore con buon compagni, Arbore vide una cosa che per noi era il massimo, era un affare che uno spingeva un bottoncino, parlava con quello, spingeva un altro bottoncino, Arbore lo guardò e disse, ma questo l'ho inventato io 25 anni fa, cioè lui sosteneva che era proprio quello suo, praticamente. Io poi a un certo punto, insieme a Giorgio Lauro con cui facevo la trasmissione allora, andai a Bruxelles e facevamo la trasmissione lì, facevamo una settimana mi sembra, andavamo una volta a Bruxelles e una volta a Strasburgo. Di Strasburgo sinceramente non me lo ricordo, però a Bruxelles rimasi sconvolto dal fatto che era tutto così bello, era tutto così efficiente, era tutto così lucido, perfetto, tutti i cavetti che chiedevamo ce li davano in un attimo, e sì che ne abbiamo chiesti tantissimi di cavetti, la linea arrivava, non cadeva mai, tutte le cose che succedevano a Roma, lì non succedevano. Era miracoloso. E sì che trasmettevamo da una postazione, adesso io non la ricordo più, forse la ricordo, è proprio in mezzo, non in uno studio, addirittura in quella specie di... Al terzo piano, famoso terzo piano dove c'è lo spazio tv e video. C'è chi lavora sul serio, chi è a chiacchierare. Scusate se vi abbiamo interrotto. Non capivo perché battevate le mani, non avevo detto un cazzo io. Va bene, comunque lì in questo studio, che non era uno studio perché era un pezzo di divano rotondo, passava gente, ci scavalcava, c'erano rumori pazzeschi, tutto perfetto, tutto perfetto. E allora lì, io che capivo pochissimo di Europa tuttora, capì che l'Europa era una cosa fatta bene, nel senso che probabilmente, almeno nelle strutture, non nell'Europa, i 38, quelle che sono, no, ma almeno quando gli europei si mettono insieme, formano un'unione, e gli danno degli strumenti, gli danno delle case, beh, lo fanno bene. Probabilmente sono normali, non sono speciali, non sono eccezionali. Siamo noi, a Roma, che non siamo normali, perché, voi sapete, le regole che guidano la gestione dell'ente RAI sono diverse, immagino, da quelle della radio, delle strumenti, lì valgono altri principi, vale la, come si può dire, la, non c'è, cioè, dire meritocrazia è proprio una parolaccia, cioè, il merito è l'ultimo dei problemi. Lì ci sono gli scivoli, ci sono le cose, ci sono le promozioni, ogni volta, perfino i dirigenti intermedi, io non frequentavo i dirigenti veri, frequentavo i dirigenti veri, si meravigliano che vada in onda la trasmissione. E questo è un danno, perché il fatto che la trasmissione va in onda, è sempre merito di altri, non di loro, di altri, e li convince che si può andare avanti assolutamente così. Dicevo, comunque, questa visione, dal punto di vista mio personale, di una struttura che funziona, mentre io venivo, anzi, portavo lì una trasmissione, una cosa che non funzionava, mi ha dato l'impressione che l'Europa fosse una cosa giusta. Poco, diciamo, come motivazione. Però, sufficiente per me. L'impressione che uno ha quando va a fare le cose sue, è importante, però, perché poi non è che ti interessa tutta l'Europa, no? Il dettaglio di come si fa la difesa europea, magari non ti interessa, ti basta sentirti protetto. Però, appunto, la radio, quello che fa un ingegnere, che fa un biologo, va in Europa e scopre che la Commissione europea ha dei biologi che vanno in giro per i mari a studiare i mari. Magari sono anche bravi, questo non lo so. A Strasburgo? Tu parla, io ripeto. È come Roma, non funziona. A Strasburgo? A Strasburgo si scopre anche che si può andare in autostrada a 170 all'ora. Tu sei un provocatore. Allora, lì, a una delle puntate della trasmissione, avevamo ospite Speroni, che era un eurodeputato della Lega. E noi gli chiedemmo, ma ti piace? Insomma, qual è l'esperienza positiva che ti ricordi, che ti ricorderai per tutta la vita? Ecco, io ho una Maserati. Forse l'aveva comprato quei 49 milioni di bossi, può darsi. E io la tengo qui. La dico, beh, è utile, no? Tenere qui una Maserati. Certo, perché io vado in Germania e posso correre a 250 all'ora. Cosa che invece in Italia non posso fare. E quindi lui aveva comprato questa Maserati soltanto per quei giorni che andava, che in realtà andava lì, doveva lavorare, teoricamente. No, soltanto per andare a 250 all'ora sull'autostrade tedesche. E questo depone a sfavore dei tedeschi che consentono a Speroni di andare a 250 all'ora sull'autostrade. È consentito a chiunque vada su alcune dell'autostrade tedesche. Però Speroni faceva un'altra cosa che io feci con lui, perché lui guidava gli aeroplanini. Sì, quegli aeroplanini con quattro posti, mi chiedo di Cessna, così. E lui, una delle cose che faceva a Strasburgo era di andare lì a volare. E una volta portò me e un'altra persona a volare con lui sui cedi di Strasburgo, con quest'aero che come era 500 con le ali. che ne fa un po' facevano. Noi lo pagavamo. Almeno era nella Commissione Trasporti. Guarda, però Speroni non è stato neanche... Era uno di quelli che lavoravano là. Devo dire la verità, era uno di quelli che lavoravano. Poi, aspetta, la Germania è lì, cioè Strasburgo è sul confine della Germania, quindi per questo aveva questa comodità di... prendiava la macchina, usciva e andava. E vum, da 0 a 250 km all'ora. Prima della periferia già aveva toccato i 250. E infatti tornava in tempo per le sessioni. Tornava in tempo per votare. Iniziavano a discutere, lui partiva, arrivava a Colonia, tornava, votava e ripartiva probabilmente. E però a Strasburgo c'è un'altra cosa. Adesso, a Strasburgo c'è questa sede del Parlamento europeo. Chi avesse una lacuna geografica, a Strasburgo è a 450 km a sud di Bruxelles. E una volta al mese, per quattro giorni sostanzialmente, a lunedì e a giovedì, il Parlamento si riunisce lì a Strasburgo. E questa è una delle cose che fanno molto arrabbiare Claudio, perché l'origine era... Strasburgo simboleggiava la pacificazione, finalmente raggiunta tra Germania e Francia. Strasburgo è stata al centro di un terreno dove sono morti centinaia di migliaia di soldati francesi e tedeschi per secoli. Questa cosa finì e quindi si decise di mettere questa sede a Strasburgo e purtroppo nei trattati c'è scritto che deve stare lì sta sede. E non si riesce a spostare, perché senza il parere favore dei francesi non si sposta. Però questa è un neo che Claudio ha trovato... Sì, infatti, adesso basta parlare bene dell'Europa, parliamo anche di questa incredibile cretinata che è stata fatta, no? Cioè, per far contenti i francesi e un pochettino anche i tedeschi, cioè è una simil nazione, una simil confederazione di stati, che stanno a fare quei due. No, no, fate, 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 fate. In realtà, perché no? Però era evidente, anzi è evidente, e tu che sei lì lo puoi descrivere meglio ancora di me, che una volta alla settimana... Al mese, al mese. Al mese, sì, certo, una volta alla settimana. Bruxelles sembrava Amazon, un incrocio tra Amazon e... Non faceva ridere Amazon. Questa è bella, questa la dobbiamo anche fotografare. Questo sei tu colpito dalle frecce di... Dalle frecce che è dell'Europa cattiva che ti colpisce. Le frecce della Rai. Quello dietro, voglio pensare di essere io dietro di te. Eh, beh, la prima volta che mi capita di avere un ritratto, eh. Un ritratto, una caricatura, ma è quella dello spirito, è questo. Anche tu sei venuto bene. Ti ha un po' ingrassato, ti hanno messo un po' più in salute, come si dice. Guarda, io sono macrissimo, non come lui, che è un ghecciccione. Nell'Europa si parla di obesità? Sto parlando con te, eh? Eh. Lui voleva parlare con Mattia, che era stato dal posto tuo. Scusa. C'è l'app Trentino Salute. Scusa, si capisce che non ci vedo? Ma abbiamo queste luci qua, che fanno un caldo, è pazzesco. L'app prevede anche un percorso personalizzato per migliorare... Ho dato dell'obesa. Scusa, non volevo. L'obesa è lui. C'era un'app per i percorsi personalizzati, per riuscire a migliorare e riuscire a migliorare anche i propri stili di vita. Ci abbiamo ammazzato il discorso. Perché la verità è che gli anziani, a parte gli obesi, che gli obesi molte volte lo sono per colpa loro di un'educazione sbagliata, gli anziani lo diventano diciamo, contenti di farlo, ma involontariamente. Non è una scelta spesso. A un certo punto uno diventa anziano. Anziano. Oh, è anziano. Ma anche obeso. Può anche diventare obeso. Io sono sulla strada, per esempio, dovessi essere uno anziano. L'anzianità è inevitabile. Sì, se uno ha fortuna è inevitabile. Poi può capitare di non arrivarci, ma non è una scelta. Adesso me l'hanno spostata degli anziani. Ci si diventa. E state diventando un grande business. Perché quello a cui accennava giustamente Mattia, la cyber economy, è una delle cose che, è una delle fonti di guadagno a cui si stanno aggrappando anche centri studi, centri di ricerca, centri studi prestigiosissimi, che si occupano di storia e politica europea, di economia europea, che hanno aperto programmi sulla salute, sulla cyber economy in particolare, perché gli anziani stanno diventando una fonte di guadagno per le imprese. È una questione che va affrontata in Europa, perché siete sempre di più, perché la vita si allunga per fortuna, giovani ne nascono sempre meno, quindi c'è tutto il problema di gestire questo invecchiamento. Queste persone che vanno in pensione ci restano molti più anni di quanto fosse in passato, ci restano molto più in salute di quanto fosse in passato, ma con sempre meno famiglia di quanto fosse in passato, perché poi dietro gli anziani, mia mamma è stata fortunata, ha quattro figli, otto nipoti e così via, ma è un caso abbastanza raro oramai. Quindi voi anziani state diventando una risorsa economica importante. Sì, diciamo che fino adesso ci hanno detto che siamo un peso, cioè non è che... Io ricordo uno dei titoli di uno dei giornali satirici che ho diretto, era Aiuta lo Stato, ammazza un pensionato, che lo trovo molto carino, no? Cioè non... Effettivamente è vero che... Io sono... Io non so da quanto anni sono in pensione, ma credo... Ero un bambino quando... Sempre quasi. Ero un bambino quando sono andato in pensione. Sì, la gente non ci crede. Quando io dico che sono in pensione da... 25, 20 anni... No, no, direi che qualcuno si potrebbe restarci male. Sì, ma non è mica una pensione dopo, una pensione lunga. Il... Sai, cioè, i pensionati, i vecchi, gli anziani, sono obiettivamente un problema. Ma in realtà sono un problema per loro, per se stessi, per essi stessi, come si dice in italiano? Scusa, tu sei... Per se stessi. Per se stessi. Perché chiunque abbia studiato, almeno che abbia fatto il classico, sa che la vecchiaia, l'anzianità, era un valore. Cioè il... Adesso non dico Seneca, ma insomma... Cioè l'anziano era qualcosa di... La saggezza. Non è che... Cioè se uno dice ah, il bambino di cinque anni è molto saggio, portato dal medico, no? Non... E invece la saggezza era... Cioè si andava dagli anziani, non c'erano i psicanalisti una volta, no? Si andava dagli anziani. C'erano anche i preti, fortunatamente, e c'erano altri preti. Guarda che qua dietro c'è l'arcivescovo dietro alle tue spalle. Qua dietro? Dietro nel palazzo, qua dietro. Ah, devo... Non lo vedevo, in effetti. Ecco, a proposito della vista, uno dei problemi degli anziani, sapete qual è? Come il traffico per i palermitani. è la vista, no? Beh, io non vedevo prima. Perché? Sono innocente. Io da quest'occhio non ci vedo. Cioè, insomma... Sì, no, non ci vedo. E a 75 anni bisogna rinnovare la patente. Allora, tutto contento, sono andato a vedermi le leggi e le leggi dicono che quando uno non ci vede da un occhio basta che ci veda dall'altro occhio. che è anche banale, se vogliamo, no? Cioè, uno che non ci vede da tutti e due gli occhi sarebbe veramente... Non riesce neanche andare a fare l'esame, per dire. Io sono andato. Poi, siccome le tragedie non sono mai isolate, io ho anche il diabete, perché non si può negare, ma ho anche le apnee notturne, che sono le peggiori, per cui non danno la patente a chi ha le apnee notturne perché hanno paura che si addormenti in macchina. Allora, per il diabete sono andato... No, no, va bene, mi ha dato il certificato, per quanto riguarda le apnee notturne mi hanno dato il certificato, mi presento alla commissione sette giorni fa e diceva bene, bene, il diabete è bene, mi legga lì e dico, no, ma io con questo non ci vedo. Ah, beh, ecco l'altro. Eh, leggo, leggo, leggo e poi in un certo punto mi fermo. Eh, c'è, purtroppo non le possiamo rinnovare la patente. Mortacci. Avevo sette decimi e ce ne vogliono otto. E allora che facciamo? Dice, beh, guardi, torni fra una settimana, magari gli è aumentata. Scusi, ma... Adesso tirate fuori carta e penna che arriva il tutorial di Claudio Sabelli Fioretti. Allora, io, indeciso se mettermi a piangere o prenderli a schiaffi, ho detto, vabbè, ci vediamo una settimana. In questa settimana io sono andato su internet e ho studiato tutto, ho messo come si può migliorare la vista senza gli occhiali, perché ovviamente gli occhiali ce li avevo, ma non bastavano. Yoga per gli occhi, ho scoperto una specie di di tribù dei battesiani, quelli che seguono uno oftalmologo di un secolo fa, Bates, e ho cominciato a fare tutto quello che mi chiedevano. Mi chiedevano delle cose tremende, mettermi la mano sull'occhio per due ore, oppure guardare di qua, guardare di là, una cosa ignobile. Mi sono scaricato, sapete quell'affare che vedete dagli oculisti, che si chiama Tabelle di, tabella di, mi verrebbe da dire Suellen, ma quello era, Suellen non era, era una telefilm, era una telefilm, J.R., Snellen, Snellen, Tabelle di Snellen, cosa stanno facendo? No, questo per prepararmi a quando voi applaudite una battuta cretina mia, chiedevano. Allora, voi non ci crederete, l'altro ieri sono andata a fare la visita e l'ho passata. Adesso io vi do soltanto, se siete miopi, andate a cercare come guarire la miopia senza gli occhiali. Io tutte le mattine faccio gli esercizi, vado nella stanza dove ho messo la tabella di Snellen, Snellen. Hai detto tu, io non ho. Ma che ne so. Devo sapere tutto io. Se tu tiri fuori le cose le devi sapere, se no sei il cioccolataglio, come si dice. Io vedo tutta la tabella, poi durante la giornata scema un po', però poi la sera di nuovo faccio queste prove, mettete le cose. Questo si chiama palming, vuol dire mettere il palmo, facile no, sopra l'occhio. Poi c'è anche il il sunning, che vuol dire se non siete matti guardare il sole diretto, chiudendo gli occhi. Poi il dondolio, delle cose tremende, insomma comunque è cala. E non è per il dondolio. Il salto dentro il cerchio di fuoco europeo. Io guardo con quest'occhio perché con quest'altro... Vabbè, insomma, comunque non so perché vi ho raccontato queste mie tragedie. Comunque, tanto per capirci, da un giorno ho di nuovo la patente. Non ve ne frega niente, non battete neanche le mani, battete le mani soltanto a quelli, eh. State solo attenti perché sappiate che può girare, ecco, questo signore con la macchina... io sopra i 250 riacquisto la vista per disperazione. Comunque, sono più sicuro io con un occhio solo che Speroni con tutte e due, eh. State voleva fare un gioco stasera per parlare di Europa. Voleva provare a capire quanto ne... quanto ne sappiamo di Europa. vorrei tirare fuori un po' di cose europee e vedere chissà la risposta. Non so se si va di farlo. Volevo soltanto chiarire perché non so mica scepo che fare... Perché io sostengo perché lui è un comunicatore europeo e sostiene come tutti i comunicatori che le comunicazioni sono fatte bene. Io invece che sono un comunicatore italiano... Non è vero. Vabbè, insomma... Comunque, puoi dirlo. Io invece che sono un comunicatore italiano sostengo che la comunicazione è l'ultima cosa che serve per far capire le cose tant'è vero che secondo me di Europa di come funziona l'Europa di quali sono gli enti europei eccetera eccetera secondo me io per primo nessuno sa niente. Io adesso per venire qui mi sono non preparato perché sono andato all'università Wikipedia e lì ho scoperto per esempio che non c'è soltanto Strasburgo Bruxelles e Francoforte c'è anche il dimmelo te che non mi ricordo non so c'è Amsterdam dove mandiamo i soldi perché ce li riciclino Lussemburgo 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 ecco noi credevamo per esempio che Lussemburgo fosse soltanto servisse soltanto per quello per riciclare i soldi soprattutto e invece no ci sono un sacco di agenzie ci stanno gli uffici amministrativi del Parlamento europeo forse non è un caso vedrete il primo scandalo ma c'è stato qualche scandalo europeo? c'è stato qualche deputato che è stato beccato che prendeva tangenti meno male si sentiva più a casa sua l'italiano? no olandesi ci hanno fregato gli olandesi? gli italiani no non mi ricordo va bene allora io voglio non ho capito voi siete d'accordo con me che nessuno sa un cavolo dell'Europa? attenzione a come rispondete hanno detto che si c'è un certo consenso no ma lui è d'accordo e quindi chiedere a lui non serve a niente lui è d'accordo potresti fingere di non sapere perché tutto questo è combinato hai creato una copertura perfetta sentiamo le domande vediamo io non ci vedo quindi non posso indicare devi essere tu a indicare qualcuno ecco scappano perché hanno paura di essere interrogate non avete studiato in prima fila ci sono un po' di persone escluso Mattia che diamo scontato che qualcosa sappia ci sono due signore e due signori si alzi in piedi la signora ecco questa signora qua vicino a Mattia interrogata interrogata sei pronta? ma perché mi avete detto signora non rispondo no ma io non vedo no no mi autoboccio già comunque proviamo allora per esempio cioè l'Europa è un insieme di nazioni ma possiamo immaginare che sia una nazione sola possiamo immaginarlo magari potessimo immaginarlo ma non è ma insomma comunque ecco allora noi abbiamo il presidente della Repubblica giusto? sì ti vedo un po' titubante sì ma guarda ti assicuro abbiamo il presidente della Repubblica e per fortuna sì ma distitando ecco a proposito nel 2022 c'è un nuovo appuntamento con Claudio Sabelli Fioretti 2022 che stai dicendo? per il Quirinale ah me la dico dopo questa questa me la dico dopo perché un po' mi vergogno ancora allora chi è il presidente della Repubblica europea è una domanda tra bocchetto tra bocchetto adesso lo chiedo a lui non lo sa manco lui c'è una presidenza della Repubblica? no non c'è la chi è il più importante? il presidente della commissione la commissione la commissione non è mica la commissione il Parlamento no no è il consiglio dei ministri no di fatto chi ha più potere reale nelle mani il presidente della commissione poi c'è il presidente del consiglio che coordina l'attività dei governi ma quale consiglio? il consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo perché ci sono due presidenti del consiglio ci sono due consigli? no poi ci sono i consigli dei ministri i consigli dei ministri che sono della sanità dei trasporti della difesa degli esteri ma tutti tutti e 27 quindi tutti e 27 hanno ognuno 15 ministri? no ognuno sono 27 ministri e no 27 ministri della sanità 27 ministri degli interni quindi i ministri sono 15 15 per 27 ma non stanno tutti questi ministri cioè non stanno lì ma vanno tutti insieme ah vanno a lavoro per esempio c'è il consiglio esteri che poi tanto per complicare le cose mentre il consiglio sanità è presieduto dal presidente di turno che ogni sei mesi cambia con calma ogni sei mesi c'è anche la presidenza di turno dell'Unione Europea che cambia di paese in paese ogni sei mesi e i presidenti di turno presiedono i singoli consigli ma il consiglio esteri no il consiglio esteri è presieduto dall'alto rappresentante per la politica estera di difesa che è italiana? adesso è italiana visto che lo so io qualcosa come si chiama? non moavero perché è un uomo Mogherini sì mamma grazie un applauso perché scusate a Mogherini ho sudato va bene comunque bocciata signora come bocciata? no è stata attiva hai detto tutto te sbagliando anche qualche cosa ha detto lei io sono andato oltre per complicare l'esistenza ma la domanda il trilogo il trilogo? che è il trilogo? il ventrilogo? no è solo trilogo senza vento lo sa la signora sicuramente vero? sa il trilogo? no ah no o chi è da quello lì a destra? oddio no sinistra sinistra quello lì a destra diamo scontato cosa il trilogo no non lo so è il trigo no? il trilogo trilogo è il confronto che si fa perché il potere di iniziativa legislativa c'era la commissione europea non ce l'hanno neanche i governi e la commissione europea fa una proposta adesso sintetizzo che va in parlamento e poi si fa il trilogo parlamento consiglio cioè governi e commissione per mettersi d'accordo e poi fare la legislazione che sarà approvata dal parlamento e poi dai governi è un po' un patto della crostata europeo dello strude vabbè non sapete niente insomma non sapete anche il trilogo il trilogo era facile io lo sapevo ma l'ho fatto per voi non ha voluto umiliare il suo motivo non ha voluto umiliarvi sì sì e cos'è che ti avevo permesso che ti dicevo la presidenza della repubblica tua qualcuno lo sa no? c'è qualcuno che lo sa? Carla lo sa? Carla ci sei ancora? c'è una Carla là dietro? sì che c'è Carla vabbè quando stavo un giorno da pecora ci furono le elezioni del presidente della repubblica e caso volle che due passi votarono per me uno era Grillini e l'altro era uno del Miss nel senso che non era un grande cioè poteva andare meglio se devo proprio avere dei voti vabbè però fu abbastanza un successo anche perché mi sembra che allora chi leggeva le cose era Bertinotti quando l'Esse che mi conosceva quando l'Esse è il mio nome fece un po' una faccia così però vabbè poi di nuovo elezioni del presidente della repubblica dopo qualche anno e improvvisamente cos'è e cosa non è mi ricordo sette voti ci ho preso gusto ovviamente no? che cavolo ma quante volte le facevano le elezioni del presidente ogni sette anni però ce ne fu una ravvicinata perché il napoletano si dimise il secondo mandato dopo due anni terza elezione a quel punto ho scatenato le mie lobby ho fatto un po' di campagna andavamo nei mercatini c'era Giorgio Lauro che diceva a tutti quanti guardate si presenta le elezioni il prossimo presidente della repubblica tutti come guardavano andavamo a fare dei servizi al curinale io facevo finita di uscire dal curinale cioè mi avvicinavo alla guardia poi mi voltavo e uscivo mi riprendevano mentre uscivo c'era un gruppo di giapponesi io andavo vicino ai giapponesi e dicevano quella è casa mia facevano e qui dicevano ma veramente non e si si ma vedete vedete abbiamo fatto una campagna elettorale che Mattarella se la sogna e fino al giorno in cui si ah no ecco perché tre perché una era la seconda votazione e una la terza votazione la fortezza Europa però non potete interrompermi ogni volta però piacciono i pokemon scappano dalla fortezza Europa fantasmi l'ho indovinato fino a lì ci arrivo va beh insomma morale della favola ci fu una scena poi fece il discorso di accettazione della candidatura dal balcone della RAI sotto tutta la gente ma è una scena favolosa è una cosa mi ero montato la testa a quel punto per la terza votazione ci misi veramente tutto il mio cuore tutta la cosa finché l'estero era la Boldrini mi sembra che leggeva e mi cancellò un voto l'immortacci sua perché Sabelli Fioretti allora cominciamo a leggere dopo un po' cento voti Sabelli Fioretti dopo centocinquanta voti Sabelli Fioretti arriviamo fino a otto voti stavamo zitti al nono voto tutte le finestre di via Asiago c'era gente che urlava mi telefonavano ce la fai ce la fai insomma arrivammo a dieci è un successo clamoroso niente continuavano a uscire la Boldrini sempre più imbarazzata perché c'è sempre c'era Magalli per esempio che aveva qualche voto c'è sempre qualche la Palombelli due voti mi fa un baffo una direttante insomma ebbi quattordici voti che i cittadini avrebbero apprezzato quattordici voti per cui se andate su Wikipedia c'è scritto alla fine e ottene inspiegabilmente come inspiegabilmente tra l'altro sapete che Wikipedia un po' tutti possono andare a rompere le palle uno l'aveva tolto cioè si è scritto aveva avuto otto voti quattordici voti eccetera l'avevano tolto io ce l'ho rimesso anche perché voglio dire fa storia non è che un conduttore di una trasmissione radio ottiene voti alla Presidenza della Repubblica neanche il Presidente degli Stati Uniti chi era quell'attore Reagan poi c'era Schwarzenegger avevo dei passati delle cose comunque dei colleghi il problema io non faccio più un giorno da pecora e adesso fra un po' ci saranno le elezioni ah no la cosa più bella fu che alla quarta votazione alla terza no alla terza alla quarta adesso non mi ricordo insomma comunque questa era la penultima votazione poi purtroppo io da dove contavo sul fatto che c'era gente che doveva non vodeva votare chi bisognava votare Rodotà che ne so e allora pur di non votare quelli votavano per me io gli telefonavo ovviamente è una vergogna insomma proprio guarda vota per me i leghisti no i leghisti non potevano perché perché devono far vedere che votavano tutti insomma comunque con questo sistema ottenevo voti alla quarta o alla quinta si missero d'accordo e quindi era chiaro che nessuno non avrebbe beccato più un voto allora feci una dichiarazione a Lanza che consegnavo il mio pacchetto dei voti a Mattarella in nome della pace politica e quindi Mattarella non mi ha neanche ringraziato per dire l'ha presi così come fossero suoi di diritto neanche un cavalierato in cambio ma neanche Cossiga col quale io avevo dei rapporti di amicizia eccetera eccetera una volta disse che avrebbe dato Cossiga era pazzo sapete io ho scritto due libri su Cossiga il primo la prima domanda era Cossiga è vero che sei pazzo sì quindi era ormai assoluto che lui fosse pazzo aveva detto chiunque qualsiasi giornalista che viene a seguirmi quando io vado all'estero io gli darò il cavalieriato allora io convinzi Carlo Rognoni che era il direttore del secolo XIX io lavoravo al secolo XIX in quel periodo a mandarmi a Malta dove lui andava a fare una delle stronzate che faceva lui e e non mi ha dato il cavalierato una volta sola scusa allora chiunque venga a seguirmi e io ero un chiunque sono andato a seguirlo e non glielo ho anche rinfacciato niente e non me l'ha dato ma l'ha dato a cani e porci il cavalierato è veramente è una cosa io niente mi tocca diventare presidente ecco il problema è adesso ci saranno le elezioni nuove ma io non faccio più un giorno da pecora come faccio a farmi eleggere dura no? vieni a fare trasmissioni da una radio europea però devo dire una dimensione europea cioè il candidato faccio il salto in avanti per l'Italia e l'Europa cominci a trasmettere da Bruxelles in quel fantastico studio che si chiama Videobox adesso mi sono ricordato Videobox che è un terzo dal Parlamento europeo da Bruxelles al terzo piano il Parlamento europeo è una struttura avveniristica dove si perde chiunque e c'ha comunque qualsiasi cosa passa per questo punto dove arrivano due scale mobili dalle entrate e ci sta in mezzo questo Videobox dove per esempio fanno anche la trasmissione la bussola quella di Rai News 24 ed è effettivamente uno spazio aperto diviso in due metà diciamo che possono trasmettere in contemporanea e la cosa incredibile è che sei in mezzo c'è pure un bar là dietro il bar cosiddetto dei lobbisti c'è Caciara però le trasmissioni vengono sempre pulite perché evidentemente hanno studiato molto bene l'audio e la cosa bella è che a differenza della Rai non fanno fuori nessuno c'è chiunque chiede lo spazio ha diritto ad averlo cioè puoi avere lo spazio lì puoi avere degli studi radiofonici puoi avere studi tv basta chiedere e ti viene dato che siano più democratici? beh intanto non rispondo a un solo governo ti tubi su questa domanda ti tubi no mi dubio perché non vorrei fare l'altarina all'Europa però in effetti il fatto forse anche di essere non un solo governo ma di rappresentare una pluralità di governi pluralità di posizioni pluralità di partiti non c'è una maggioranza che governa il Parlamento vera cioè non c'è una maggioranza strutturata e questo qua quindi costringe diciamo per fortuna diciamo una cosa democratica a lasciare spazi aperti a tutti cioè non c'è nessuno che può limitare lo spazio di qualcun altro è anche il limite del Parlamento Europeo questo secondo me perché se non c'è una maggioranza è molto più difficile avere poi un indirizzo politico forte benché su un sacco di materie il Parlamento abbia una legislazione coerente sui diritti umani procede sempre in una certa maniera i diritti delle donne contro la pena di morte e così via c'è sempre una certa coerenza senti ma tu come vedi questa cosa della Brexit io non vorrei sbagliare ma non se ne vanno mica non se ne vanno perché non hanno io non so poi tecnicamente se si può fare ma se rifanno il referendum domani vince l'Europa sicuramente sono gli altri adesso che hanno visto vogliono ma l'Europa ti ricordi quando mi sembra Moro diceva il centro-sinistra è irreversibile frasi clamorose come le convergenze parallele queste cose così l'Europa è irreversibile l'euro è irreversibile non si può più non è pensabile secondo me anche quelli che odiano l'Europa in realtà ci sono affezionati se gli togli l'Europa non sanno più che cosa pensare che cosa dire non hanno più idee cioè l'Europa è qualche cosa secondo me l'Italia è una certa deriva dico una cosa che potrebbe sembrare sbagliata ma in realtà con calma è giustissima la deriva di destra l'Italia è sempre stato un paese di destra però la deriva di destra cioè la destra-destra destra-destra-destra verrà sempre fermata dall'Europa se noi ci affezioniamo all'Europa se noi diamo all'Europa più di quello che l'Europa dà a noi come direbbe Kennedy mi sembra vero? gli errori gravissimi non ne faremo mai non ne faremo mai più diciamo ecco c'è qualcuno che vuole chiedere voi che giocate a fare i compagni come vai avete scritto tutti e due per il secolo decimo nono il secolo decimo nono si chiama secolo decimo nono ecco decimo nono vuol dire che non è il secolo d'Italia e quindi qua mi sono fatto mi sono scavato una fossa eh sì io faccio finta di non aver sentito non lo dico a nessuno ecco secolo decimo nono è un glorioso giornale di Genova io ci ho lavorato quando c'era ancora anche Rinaldi perché io ho iniziato ho lavorato chi era il direttore? la prima volta era il 92 93 su me era Rinaldi ancora prima di diventasse sì prima di diventasse senatore chi? Rognoni eh? Rognoni scusa Carlo Rognoni prima di diventare senatore nel 91-92 c'era lui e c'ero anch'io eh ma io stavo a Roma tu pure no io stavo a Genova eh allora vedi tu stavi io ero il cuore pulsante della politica è sempre un giornale un giornale genovese che aveva un suo editore adesso è entrato nel gruppo Repubblica Gedi si chiama e sono insieme insomma sono questo gruppo editoriale la stampa Repubblica secolo XIX prima la stampa ha comprato il secolo XIX poi la stampa Repubblica hanno fatto diciamo una fusione ricordo quando stavo al secolo XIX c'era quello sport meraviglioso che è nel collezionare i titoli del cavolo sì allora io mi ricordo uno era sì adesso chi se ne frega allora c'era un un giocatore di una squadra minore che si chiama Pompini e quel giorno segnò sei gol e il titolo era Pompini a Raffica che era la cosa per cui credo abbiano licenziato un paio di redattori capo ma e l'altro era dietro la Genova c'è un mondo che si chiama Gazzo e c'erano dei palazzinari che l'avevano lottizzato volevano fare delle cose eccetera eccetera e il secolo difendeva l'ambiente eccetera eccetera e fece il titolo giù le mani dal gazzo e beh ma di questi titoli c'è un libro anche che ha raccolto un sacco di titoli così perché poi nelle agenzie di stampa che voi non vedete ma noi sì le agenzie di stampa sono il pane dei giornalisti dei giornali e ci sono stati due colleghi mi pare della Cronos che hanno fatto anni fa un libretto con tutti i titoli sbagliati ce n'era uno sulla Mussolini si parlava di violenza sessuale contro la violenza sessuale allungare pene ai problemi di spazio gli articoli saltano di solito in questi casi sì però devo dire che da quando c'è stata la rivoluzione digitale diciamo le scemate sui giornali i titoli no perché i titoli li guardano ma negli articoli escono fuori delle cose incredibili non come quello sempre di Genova c'era un povero vecchietto che stava sulla strada insieme alla sua mucca tornando al pascolo e fu messo sotto e l'articolista scrisse il vecchio il signore eccetera eccetera è stato falciato mentre camminava sulla strada tenendo per mano la sua mucca se ne scrivono tante 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 poi adesso tanto per fare i vecchi non ci sono più correttori di bozze nei giornali quindi non c'è più non ci sono neanche le mezze stagioni per dire e gli audi non arrivano in orario esatto prima ogni volta che dico c'è qualcuno ci stanno altri signori magari fai parlare faccio parlare prima ci raccontavo una cosa interessante Lorenzo sui pulmini elettrici per i paesini in Francia ah sì questo tornando agli anziani oggi sono stato ospitato con con molto piacere a casa di cioè di Claudio sua Malgini come si chiama Malgini come si chiama il centro dell'universo è l'ignorantità che mi frega insomma lui abita in questo paesino sperduto Mangini sì Mangini è una frazione di Lavarone Mangini una frazione di Lavarone i cannoni di Lavarone tanto per fare un'altra gaffa posso dire i cannoni di Lavarone i cannoni di Lavarone poi i cannoni di Lavarone tu lo sai ma tu sei entrato a Gambatesa su un terreno pazzesco poi dopo continuo se io sono rincoglionito non mi ricordo quando io dico agli miei amici che abito a Lavarone tutti mi dicono eh la conosciamo ma non hai paura con quella diga guardate questa è Longarone io abito a Lavarone ma sì sì chi non sa le tre cime di Lavarone figurati siamo arrivati alle cascate di Lavarone e i cannoni di Lavarone sì sì allora io dicevo sempre al sindaco tu devi spendere un po' di soldi in comunicazione appunto perché non te conosce nessuno non è sei sette abitanti sì insomma lui tornando a tema degli anziani cosa fa l'Europa che fa gli anziani l'Europa finanzia milioni di progetti per studiare la qualunque da quanta acqua è meglio mettere negli scarichi dei water che non è un abuso ma è semplicemente un sistema per suggerire agli industrie come consumare meno acqua ottenendo lo stesso obiettivo infatti adesso i vasi hanno la doppia cosa per risparmiare l'acqua che come sapete è un bene prezioso credo anche qui al nord eh no uno dei progetti che ha finanziato la commissione è pulmini elettrici senza guidatore che sono delle cose lunghe tre quattro metri dove possono entrare dentro io ci sono entrato ci potranno stare una decina di persone che vanno da soli cioè tu gli affidi gli insegni il tragitto e quelli ripetono questo tragitto e uno degli usi per cui stanno pensando è proprio quello di assistenza agli anziani che sono rimasti soli che non riescono come lui a fare gli esercizi per gli occhi così bene magari gli levano una patente però hanno la farmacia nel paese a quattro chilometri che è troppo distante a piedi e questi pulmini elettrici che sono finanziati da un progetto di questi Horizon 2020 hanno la capacità possono essere chiamati dalla persona a casa perché questo pulmino può partire da lì e andare senza senza un guidatore e portare la persona davanti alla farmacia o dove deve andare possono fare quindi sia sempre lo stesso giro sia dei giri hanno una velocità massima di 25 chilometri all'ora fanno i giri delle cantine anche le regioni francesi quanto possono andare? 25 Speroni Speroni niente Speroni li ignora però purtroppo c'è una cosa che si chiama convenzione di Vienna che va superata per la quale nessun mezzo può muoversi sulle strade senza un conducente e quindi c'è un addetto per adesso in questa fase sperimentale c'è comunque un addetto che sta lì dentro e guarda c'è davanti un bottone con scritto stop succedesse una cosa lui spinge stop ma passa il giorno dentro a non fare niente quindi se già è faticoso fare il guidatore dell'autobus fare il palo dentro un autobus almeno fai i biglietti non so qualcosa farà no niente perché quello è inteso come servizio offerto dalla comunità ma vanno veramente? eh? vanno veramente? ci sono ce ne sono alcuni già in 4-5 città europee vengono usati ad esempio negli aeroporti negli ospedali però soltanto in spazi chiusi spero non le autoambulanze no non come le autoambulanze no no negli ospedali per spostare perché gli ospedali spesso sono strutture gigantesche no? come magari la radiologia sta lì e il tuo reparto sta da un'altra parte a mezzo chilometro vanno in giro radiologia eccetera poi vanno subito al pronto soccorso portando persone che hanno messo sotto che hanno messo sotto si c'è un carrello dietro dove automaticamente raccoglie tipo mieti trebbia a Rovereto al polo della manifattura dove c'è stato al polo della mechatronica dove c'è stato un incontro ieri di Siamo Europa lì verrà costruita dalla provincia assieme al centro di cerche Fiat un piccolo circuito per realizzare per fare per simulare una guida la guida senza guidatore ma io ho guidato una macchina l'altro giorno ho affittato una macchina ogni tanto mi capita di affittare macchine qui in Italia perché vivo a Bruxelles ho affittato una macchina io prendo di solito quella che costa di meno mi hanno dato una più fica una Seat quella era la più fica complimenti quella era la più fica una più fica di quella che avevo scelto io ma come ti hai ridotto con la petta in giro io ho affitto una piccola mi hanno dato questa Seat che in realtà è la Volkswagen qualche cosa però marcata Seat io piglio questa macchina che aveva il cambio automatico è già una figata c'era il cambio sequenziale che tu puoi scegliere e poi a un certo punto ogni tanto si induriva il volante questa macchina Seat da sola si guida non ha bisogno delle tue mani perché se vede le strisce tu gli metti 120 in autostrada la metti e lei va fa le curve cioè è impressionante sei sicuro? sono sicuro avevi bevuto? no no ero con la mia famiglia i miei bambini si stanno dentro e dopo un po' sei sicuro che non c'era tua moglie con un altro volante come quelle dell'autoguiglia? no fa brevi tratti fa tipo 300, 400, 500 metri poi ti chiede di metterti alla guida poi va a sbattere quindi o ti metti alla guida o un palo di solito questo qui lo dicevo perché appunto si parlava di questa cosa senza conducente che ormai sta diventando una io sai che tra tutte le cose che si fanno in questo mondo alcune sono intelligenti alcune sono delle stronzate questa mi pare una delle stronzate perché che ci guadagni a licenziare l'autista creare panico in tutti quelli io se vedo una macchina senza l'autista anche io mi spaventerei posso dire che cosa mi succede? mi cago sotto ecco non grosso modo e in più il vantaggio qual è? consuma di meno? no no il vantaggio è un boh in teoria in futuro se tutte le macchine fossero così ci sarebbe maggiore sicurezza sulle strade non è detto l'unico vantaggio è che non devi pagare l'autista ma tanto gli devi dare il reddito di cittadinanza a quel punto perché è disoccupato sì in Italia sì se io avessi l'autista senti porti questa mia istanza in Europa per favore che la smettessero senti io vorrei andarvi a cena ma visto che sono le elezioni europee tra poco alle quali invito tutti quanti ad andare a votare perché chi non vota non ha diritto di protestare perché se fai decidere agli altri tu che vuoi votereste per me no posso rinunciare alla presidenza della repubblica eventualmente se vado in Europa quello si può no sì anche perché sono incompatibili le cariche quindi devi scegliere per forza devo scegliere anche se fai presidente è dura è dura è una scelta che affronterò con un grande senso del dovere verso la patria eccetera sto già parlando volevo chiedere voi che ne pensate sapete cos'è lo spizzo in candidato lo sprizzo del candidato lo sprizzo lo sprizzo del candidato lo sprizzo adesso lo pronuncio male ve lo pronuncerete meglio ma si dice spizzo in candidato che sarebbe il candidato mi basta questo perché per capire che non sappiamo comunicare un cavolo noi l'avete comunicato sei sicuro l'abbiamo comunicato se ne parla se ne riparla ma purtroppo appunto non arriva perché è un concetto inutile purtroppo va bene il 15 maggio ci sarà la sfida tra gli svizzo in candidato a Bruxelles e noi lo trasmetteremo cioè noi non lo trasmetteremo noi gli svizzo in candidato allora lo svizzo in candidato sarebbe il leader che i partiti politici europei PSE popolari verdi hanno scelto come candidato alla presidenza della commissione europea il capolista della prima repubblica diciamo così sarebbe il capolista europeo se tu voti per i popolari in Italia cioè per forza Italia in questo caso oppure qui non so ci sono di fatto voti anche per lui voti anche per lui sostieni lui sì non è che voti per lui perché non ce ne so nessuna cosa formale sostieni anche questa persona ed è una cosa che il Parlamento europeo ha tentato rifare per portare l'Europa più vicina ai cittadini vedo che è stato un brillantissimo successo mercoledì mercoledì prossimo c'era la trasmissione in diretta su Rai News alle 21 del confronto sì ma anche sul sito del Parlamento europeo perché questo dibattito sarà il Parlamento europeo Rai News ne trasmetterà Spezzoni il sito del Parlamento europeo alle 21 lo trasmette tutto noi lo guarderemo assieme allo spazio off in via Val Sugana in piazza in Torre dell'Aquila tu non hai idea noi a Masetti che è quello il nome del mio Masetti mettiamo un grande schermo gigante in piazza perché noi sette vogliamo vedere gli spizzi in candidato lo schermo normale sì no perché io direi che possiamo andare a cena sì volete dire qualcosa se avete una cosa no attenzione che parla Mattia parla Mattia se gli dici ancora qualche cosa ecco se la siena lì che mo perché fa la saputa adesso ha vinto una volta forse danno anche fuori tema però invece noi infatti per questo mi permetto da osservatore privilegiato così cosa ne pensi di Volt? a me parli sì ma io non ho capito cosa c'è dietro ok perché ho conosciuto noi abbiamo dato sul mio giornale molto spazio a Volt perché ci sono molti candidati molto giovani e il mio giornale tutte le cose che fanno i giovani cerca di raccontarle però questi di Volt hanno un sacco di soldi e io non ho capito ancora bene da dove gli arriva c'è Soros dietro sicuramente ma magari no ma Soros è uno buono poi se ne può parlare in altra serie cioè questi qui si presentano come ragazzi però hanno una rete europea hanno presentato liste in un sacco di paesi europei hanno moltissima ambizione loro sono convinti di eleggere almeno 25-30 deputati che mi pare sinceramente tanto in Italia non arrivano neanche allo 0-1% c'è molti ragazzi quelli che ho conosciuto sono persone in buona fede persone che ci credono che hanno studiato sanno cos'è l'Europa però appunto l'unico dubbio che ho però questo è perché penso male perché ma come nascono? nascono sono dei ragazzi che hanno quello che abbiamo visto noi ma non l'abbiamo mai presi molto sul serio perché nessuno considera che arriveranno mai in Parlamento Europeo poi magari è stata la più grossa toppa che abbiamo preso e arrivano in massa ma sono decine i movimenti che nascono che vogliono andare all'elezione che questi qua non sembravano granché però l'abbiamo visto molto crescere e organizzare cose grosse essere in vari paesi però nasce da una volontà di ragazzi il problema sai qual è? è che loro sono europeisti che non basta essere europeista vuol dire essere buono io sono buono non vuol dire un cacchio cioè tu sei di destra sei di sinistra sei di centro sei liberale che ne pensi dell'immigrazione che ne pensi di come svilupparsi l'industria sul mondo cioè capito essere pro europei portare tutti comunque sono credo abbastanza brave persone molto ottimisti ecco diciamo mi sembrano molto ottimisti a me a volte preferisco amperre un pochettino vabbè ho detto la battuta cretina perché qualsiasi va finita con una battuta cretina se volete ne ho anche altre ma può darsi che è meglio andare a mangiare che dici sì però l'ultimo no come l'ultimo una volta che chiedo un intervento non ho mai visto più di due interventi quanti ne volete allora la settimana scorsa c'era un documentario credo che era stato trasmesso da arte sulla storia di Volt e quello che dice lei non corrisponde a quello che c'era nel documentario per quello che riguarda l'essere pieno di soldi perché mi sembra che il ragazzo che è al vertice di questa organizzazione è un tedesco che adesso abita a Berlino uno studente che vive praticamente in un appartamento condiviso con altri 34 studenti poi hanno fatto vedere il capitolo polacco del movimento Volt che è nelle mani più o meno di una ragazza che vive ancora con i genitori in Polonia non sono riusciti a raggiungere il numero necessario di firme per presentare la lista e probabilmente è anche in Italia quindi il fatto che in Italia c'è la lista no? no no in Belgio c'è ad Amsterdam sicuramente in Germania sicuramente comunque il profilo dei partecipanti non mi sembrano che sia persone no ma mica ho detto a chi gli dà i soldi non vuol dire a loro personalmente fare politica costa però cioè tu se sei una persona onesta come sono senza dubbio questi ragazzi non è che si sono arricchiti loro però per prendere questo ragazzo di Berlino e spostarlo a Roma a fare un grande evento in una sala tutta attrezzata dove c'erano altre decine e decine di ragazzi venuti da altri paesi qualcuno si sarà autofinanziato ma insomma hanno fatto una campagna anche presentare una lista elettorale non è che ci mettiamo io e lui su un foglio di carta mettiamo delle firme no con me guarda io divento Presidente della Repubblica quindi scusate non mi permettere mai tu vai da solo cioè anche raccogliere le firme e presentare un simbolo davvero un consulente legale cioè è una cosa un po' costosa fare una campagna elettorale è una cosa costosa infatti loro non la stanno facendo non si vede molto però io parlavo con qualcuno che mi spiegava ex deputato europeo mi spiegava che un'elezione costa in Italia costa devi investire almeno 75 mila euro o tu o il tuo partito perché devi andare in giro cioè costa fare una campagna elettorale perché tu sei a Trento stasera eri a Lavarone oggi pomeriggio stamattina a Reabolzano domani fai altre tre città ti devi spostare devi dormire fuori devi avere assistenza però non è più non è più il tempo dei comizi non è più tanto il tempo cioè la presenza nell'europeo un po' lo fai perché poi questi collegi giganteschi ci sono 5 collegi in Italia ognuno che ha almeno 15 milioni di elettori quanti sono 15 milioni no perché le isole già hanno 7 ma insomma diciamo una decina di milioni di elettori almeno quindi insomma è costoso perché devi essere sul territorio devi spostare quindi non è che sono ricchi questi non ho detto questo ho detto che però hanno dei finanziamenti che non so esattamente un tema che non è stato molto ben chiarito non vuol dire che siano finanziamenti illeciti né che siano ho detto solo che quando non so bene da dove vengono i soldi resto un po' perplesso a maggior ragione perché sono tutti ragazzi che non hanno soldi normalmente gli studenti invece se ti dicessero che vengono dalla mafia stai più tranquillo lo saprei almeno so da dove vengono posso prendere posizione vabbè finita qua Mattia devi fare altre domande? no tu devi fare io volevo chiedervi una vostra previsione ma io scherzavo veramente no io la faccio volevo chiedere una vostra previsione il ristorante resta aperto sì sì ormai siamo una città europea allora i sondaggi danno 26 alla Lega 18 al PD 17 e 5 stelle 8 Forza Italia 4 Fratelli d'Italia di chi? in Italia è un sondaggio di sorpasso? euro parlamentari no ma in teoria 18 17 erano vietati oggi i sondaggi no? no è è un sondaggio di politico cioè è una media dei sondaggi in Italia e secondo voi è sbagliata secondo me questa media perché il sorpasso non c'è stato la 5 stelle e il PD o forse era viceversa era 18 5 stelle e 17 il PD no ma non era è comunque molto basso comunque vabbè e quali è che saranno secondo voi le sorprese di queste elezioni europee cosa succederà un vostro pronostico da come la vedete dillo te va che a me mi vado a ride io sono giornalista tipico che io odio pronostici odio sondaggi io dico sempre se mi venissero a chiedere per chi voti direi Fratelli d'Italia per chi hai votato cioè direi un'altra cosa sicuramente rispetto a quella in realtà tu voti Fratelli d'Italia sappiamo tutti che voti Fratelli d'Italia come fate non lo farò e tra l'altro io voto in Beggio perché qui in Italia non c'è un partito che ho deciso già cinque anni fa di votare in Beggio poi resti nel sistema e quindi io voto per i candidati in Beggio delle liste belge dunque dobbiamo io insisto parlavo prima con un amico dobbiamo aspettare l'esito delle elezioni perché così sono capaci no 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 voglio dire è chiaro è chiaro che i populisti e gli anti-europei resteranno ai margini c'è qualsiasi sondaggio e gli andamenti elettorali recenti dei paesi guardate la Spagna ad esempio queste forze populiste sono rimaste minoritarie restano sono più grosse di quello che erano ma non avranno mai la forza di incidere anche perché se al populismo ci aggiungi il nazionalismo c'è l'impossibilità di collaborare tra queste forze perché se tu sei nazionalista non puoi collaborare con un altro nazionalista perché hai interessi diversi cioè io italiano faccio il vino tu ungherese fai il grano e io ti prendo il vino è stato il patto Roma-Berlino Salvini va d'accordo con Orban? non va d'accordo con Orban no Orban è rimasto nel partito popolare Salvini non è nel partito popolare ma non per quanto riguarda questo ma loro vanno d'accordo idealmente ma Orban non si è preso un immigrato per cui lo sto dicendo Orban è stato il secondo dopo Kurz a chiedere una procedura di frazione contro l'Italia quando ha presentato la manovra a dicembre a ottobre insomma la manovra alla fine anno quindi non c'è 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 una condivisione ideale ma non c'è una condivisione pratica tant'è la loro poca coesione che il gruppo europeo di cui fa parte la Lega al Parlamento Europeo che sono appunto il gruppo di sovranisti in cinque anni non sono riusciti a far approvare un emendamento cioè nella legislazione europea non c'è traccia di forze sovraniste nazionaliste populiste diciamo poi populismo è un termine insomma troppo approssimativo perché per loro natura non possono ma comunque sia non raggiungerà la cosa bella sarà che ci credo a questa cosa dei sondaggi che socialisti e popolari non avranno la maggioranza per la prima volta nel Parlamento Europeo voglio vedere quale sarà però la maggioranza è questo che voglio aspettare perché probabilmente la terza forza saranno i liberali probabilmente la quarta parlo sempre delle forze diciamo pro europee saranno i verdi ma è il mix di queste quattro che conterà perché se i verdi continuerà l'onda che si è vista cioè noi in Belgio io abito in un comune in Belgio che è stato governato dal centrodestra da sempre e adesso c'è un sindaco verde e i verdi erano poca cosa nel mio comune quindi bisogna vedere i verdi quanto conteranno Valuta aveva chiesto però i risultati in Italia la domanda era in Italia? si vero? in Italia ah in Italia io non mi permetto di parlare in Italia non lo so secondo me il PD andrà meglio di quello che ci si aspetta perché si è ripulito un po' c'è questo Zingaretti che non ha il carisma che avevano altri leader però riesce secondo me un leader più tranquillo poi ogni settimana è una sera in televisione quindi poco rispetto a Savini o Di Maio o a Lameroni c'è poco come commissario Montalbano ah io posso dire il risultato lo so per certo il risultato delle elezioni a Masetti a Masetti siamo sette di cui una tedesca una spagnola quindi lì già voti disperti in Europa cioè non è difficile fare la percentuale con sette effettivamente il per cento di sette tra cui non ci sono quindi c'è cinque cinque quindi la percentuale si può fare come si fa? ah si aumenta invece che di nuire ah se sono cinque cinque cento per cento è difficile fare il cinquanta per cento di cinque io credo che la sinistra non riuscirà a vincere neanche a Masetti guarda se è possibile no ma non vincerà chiaramente vincerà la Lega cioè sarà il partito largamente più votato sarà la Lega questo non c'è dubbio però se faccio campagna magari c'è se ognuno strappa un voto per il suo partito non so la spagnola non so per chi vota la spagnola la tedesca è mia moglie quindi ma vota in Italia tutte e due? no potrebbe votare tutte e due però vota soltanto in Italia sì due voti su sette ecco due voti su sette quant'è? il 30% cazzo neanche Renzi i momenti va bene qualche altro intervento? se ne voglio verrà fucilato se ne voglio l'andà se gli unichetti l'altra volta c'è forza verrà passato per le armi la prossima volta promettiamolo facciamo alle 6 così c'è più perché i guerra fondai ci hanno spinto fino a notte fonda hanno rovinato tutta la con la forza delle armi palinzesto le armi vincono sempre su tutto quali sono i progetti dell'anziano Sabelli l'ultima domanda non c'è niente da fare stasera sto aspettando la musica non ce l'hai una famiglia mia moglie è qua ancora si c'è cosa sono i progetti che ti arriva una mazzata e tua moglie i progetti del futuro non vi ho detto non vi ho detto la cosa fondamentale della mia vita è che faccio del vino a 1200 metri che non è in Europa queste cose le vieterebbero sicuramente perché loro devono stabilire la lunghezza della carota quindi figure del me non è vero non è vero queste due cose non c'è più sta cosa c'è stato un periodo in effetti cosa fai l'icevine o fai è una specie si chiama Solaris è un vino immune quindi bio non bisogna passargli niente non bisogna dargli niente cresce a la vita la vite cresce a 1200 1300 anche e naturalmente è buonissimo il mio quello degli altri no però è divertente insomma adesso abbiamo deciso che lo facciamo lo spumantizziamo lo sai perché no? ne abbiamo parlato oggi lo diciamo anche a loro perché tutti gli spumanti sono buoni anche quelli del vino cattivo quando lo fai il spumante diventa buono perché è freddo perché c'ha le bollicine è come la Coca Cola di fatto basta che non sia dolce è come la roba piccante è buono la roba fritta è buono tutto fritto la roba fritta certo va bene stanno applaudendo per dirci ragazzi ecco qua perché c'era una per loro l'applauso grazie grazie di tutto speriamo di essere ancora qui l'anno prossimo ci vediamo a Bruxelles se doveste votare per il Presidente della Repubblica ricordatevi di me allora grazie a Claudio Sabelli e a Lorenzo Rubustelli bella serata bella chiacchierata tra di noi ringrazio anche Umberto Rigotti e Rudy Patauner dello studio d'arte Androme fratelli Scarabocchio che ritroveremo domani mattina fra il resto vi invito domani mattina alle 10 faremo un incontro su energia ambiente agroalimentare e trattando di agroalimentare faremo anche una piccola colazione assieme se volete questo alle 10 il penultimo appuntamento domani è alle 11.30 molto interessante parleremo di sport Europa e sport Europa e Stovest il muro è alto solo 2 metri il titolo è di Mattia bel titolo e avremo con noi Sara Simeoni ex campionessa olimpionica di salto di salto in alto assieme a Alessandro Giordani funzionale di Commissione Europea parleremo di Europa e sport e infine domani alle 17.30 ci sarà la finale del concorso che abbiamo fatto 176 volte Europa per individuare il progetto 176 è il numero dei comuni trentini abbiamo sono 176 comuni abbiamo preso un progetto finanziato dall'Unione Europea in ciascuno dei 176 comuni trentini l'abbiamo messo siamo partiti in ottobre scorso l'abbiamo messo al voto online tra le persone i 7 comuni finalisti non c'è la varone purtroppo tra i 7 mi spiace però c'è l'userna eh no eh no il campanile ma quelli sono cimbri dai ci sono dei cimbri di luserna col sentiero cimbro dell'immaginario un progetto finanziato dall'Unione Europea che potrà essere votato domani assieme ad altri 6 è molto bello il sentiero dell'immaginario è molto bello è praticamente a qualche chilometro da casa mia esatto e è una cosa splendida parte arriva in un in un rifugio dove si mangia bene dove sono simpatici malga campo e devo dire io sto a Lavarone però se avessi trovato una casa a Luserna quando ho comprato quella di Lavarone sarei andata a Luserna molto bella qui porteremo al voto scusate appuntamento a mezzanotte noi continuiamo a mezzanotte alle 5 e mezza verranno presentati questi 7 progetti che saranno poi votati da noi qui con i telefonini e poi il progetto più votato riceverà il premio dedicato a Antonio Megalizzi ci vediamo domani vi saluto grazie